Grazie a tutti. La vastoviglia da incasso. FBA di Bruno, corso potenza 183. Torino, se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Occhio, 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 che ti può arrivare un season desista, attenzione. Sì, però io non ho fatto nomi. Sa mai, però non si sa mai. Parleremo poi dopo del season desista. Perché è bello quando una storyline diventa effettivamente la realtà. Esattamente. Buongiorno, buonasera, buonanotte anche a Fabio De Nardi. Buonasera a tutti. Grazie a tutte le persone che hanno chiesto di me in queste settimane. Perché qualcuno ha chiesto di te? Non mi risulta che qualcuno ti ha chiesto di me. Ma esistono ancora le cartelle postali. Stiamo ancora aspettando la finale del Mayan Classic, Fabio. Esatto, esattamente. Stiamo ancora aspettando la finale del Mayan Classic. Esatto, sì. Ah, ok. L'hai vista, vero? Sì, ho visto. Bene. Nonostante tutto, nonostante le varie vicissitudini della mia vita, riesco a tenermi aggiornato con il Pressing, anche se oggi non ho visto Impact. Ah, vabbè. Io ne ho visto un pezzo. Sostanzialmente perché... La domanda che ti voglio porre io, Fabio, è... Sì. Dov'è? Cioè, non era già scritta la vittoria. Ha intenzione di passare tutte le prossime due ore in questo modo? No, no, no. Ah, ok, vabbè. Fabio, Fabio, non era già tutto scritto. Sì. Scusate, sto seguendo un attimo. Eh, certo, va bene. Lasciamo stare, va bene. Vabbè. Andiamo avanti, che è meglio. Vabbè, però io non azzecco sempre i pronostici. Ecco, appunto. Dicevo, buonasera. Se azzeccassi i pronostici mi chiamerei Nostradamus, che ha fatto una zecca, nemmeno lui pronostici. Eh, appunto. Andiamo avanti. Ok, andiamo avanti. Buongiorno, buonasera, buonanotte a Leonardo Contini. Buon tutto a tutti. Esattamente. Trattando con la puntata di oggi, noi introduciamo una nuova figura all'interno del nostro podcast. Evidentemente abbiamo pestato qualche piede. E quindi praticamente ci sarà, d'ora in poi, una presenza oscura all'interno della nostra trasmissione che non potrà parlare, ne potrà intervenire, potrà solo commentare praticamente se stiamo dicendo cose parolevole che... Ma era già successo che ci fossero delle presenze oscure, però non l'abbiamo mai fatto notare. Esatto, questa è la presenza oscura certificata. Esatto. Questa è la presenza oscura che ci ha chiesto almeno il permesso di farlo. Esatto. Salutiamo il garante che ci sta ascoltando in questo momento. E' un po' come quando, Eric, ti ricordi quando avevi perso la voce che eri il conduttore silente? Più o meno, sì. Se conducevo io, però eri il conduttore silente. Noi abbiamo il garante praticamente che CKG, d'ora in poi, ci controllerà la trasmissione. Che tra l'altro la cosa importante è che comunque ci controlla il fatto che potrebbero... Cioè, per evitarci una... Per evitarci guai, esatto. Per evitarci... Una denuncia come quella che è a corsa agli Yambax. Esattamente. Soprattutto per evitarci guai dal punto di vista legale. Legale, esatto. E' un po' il tema. Vogliamo parlare subito, visto che già l'abbiamo detto due volte. Ma parliamo subito della causa. Visto che purtroppo per causa e forza di loro dovremmo saltare Impact, ma recupereremo... Quella non è una brutta notizia, oggettivamente. Cos'è successo? No, possiamo parlare poi di Impact dopo perché hanno messo venite i biglietti per Balford Glory. Perché c'è una cosa che volevo farvi notare. Comunque, praticamente... Se vuoi organizzare il viaggio, Erick, sono pronto. Ma sei scemo, ma sei impazzito. Ma Erick, scusa, non vuoi assaggiare la VIP Experience? No, più che altro sai cosa? Mi immagino che Ottawa in Canada sia un posto molto turistico, probabilmente. Eh beh. Allora no. Specialmente i primi di novembre. Deve essere proprio un bijou essere da quelle parti. Farà un po' di freddino. Eh, giusto un attimo. Chi non è mai andato a sciare in montagna a prendere un po' di freddo? Ma Ottawa non è in montagna, che cazzo stai dicendo? Vabbè, ma è in un posto come fa freddo. Sì, quello sicuramente. È la cortina da un pezzo. Ma quando mai? Ma assolutamente no. Sole, a Ottawa, sole, whisky e simple position. Eh sì, sole, sole. No, in questo caso è sole, sciroppo d'acero e simple position, probabilmente. È un detto tipico di Ottawa. Eh, certo. Scusi, mi permette la domanda. Ottawa de Hura o de Hota? Perché mi viene il dubbio. Tutte e due. Ah, ok, perfetto, benissimo. Dicevo, per chi, non so quanti di voi che ci state ascoltando, quanti di voi seguono abitualmente il video podcast, tra virgolette, degli Ian Bucks. Il video podcast è proprio la serie, la serie, la serie, la YouTube series. È di 180 altri personaggi chiamato Being the Elite, che va abitualmente in onda su YouTube. Da un po' di tempo a questa parte, durante In Being the Elite, praticamente i Bucks e anche altri personaggi hanno una storyline che va avanti da un po' di tempo. Praticamente, a loro dire, ovviamente è finta la cosa, la David Aby gli ha mandato un cosiddetto cease and desist, cioè praticamente una diffida a continuare a usare delle frasi o dei gesti, più che altro all'interno della missione. Allora, è nato tutto inizialmente... Prisimamente, esatto, principalmente come Fuck the Revival. Esatto, è iniziato tutto con la storyline, questa famosa storia del Fuck the Revival, che era una roba che non diceva neanche gli Ian Bucks, era di Cody. Esattamente, sì, esatto. E tra l'altro la storyline che avevano creato con Cody e tutto il resto, era che comunque Cody non poteva neanche usare il suo nome, erano... Vabbè, quella non è una storyline, lui effettivamente non può usare... Quella non è una storyline, però per continuare questa storyline del Fuck the Revival, hanno praticamente ammesso Cody, il fatto che Cody non può dire il suo nome... Che Marty Scurna non può usare l'ombrello perché ricorda Jack Gallagher, cioè cose così. che praticamente ogni volta che provano a dire le loro frasi, tipo il sacchito e così via, vengono bippati dalla WWE... Esatto, che c'è praticamente un tirapiedi della WWE che praticamente controlla... Uno Stugis che li segue e praticamente gli fa... Gli rende la vita impossibile. Tu che tra l'altro nell'ultimo video è stato ucciso, se hai visto... Non l'ho ancora visto, cacchio, sono indietro di due puntate perché ogni sera ho qualcosa da fare e dato che le prime puntate B&D lì duravano 5 minuti ed erano praticamente i bugs che non dormivano. Ormai, ormai adesso sono... Adesso porto una serie, tipo l'episodio 40 ha iniziato a costruire le storyline, c'è un po' più le storyline durante le cose, l'episodio durano quasi 15 minuti. 10 minuti e un quarto d'ora, cioè comunque non sono lunghi, però comunque sono già più lunghi rispetto a prima. L'irrappimento di Hangman Page da parte della WWE, è stato ovviamente in storyline. Poi ci sono anche... Esatto, esattamente. Poi ci sono i... Adesso hanno anche i poteri, se avete visto, i mingi. Non l'ho ancora visto, dannazione. Cody Rozza al superudito. Ah sì, Cody Rozza al superudito, sì. Martis Curl può fermare il tempo, credo, qualcosa del genere. Adesso non ricordo, e altri, adesso sicuramente non mi dimentico. Comunque, era tutto fatto per ridere, sostanzialmente, anche le storyline che fanno in B&D Elite, come questa crescente tensione tra... Diciamo che c'è solo una persona che è riuscito... C'è solo una persona che è riuscita a prendere sul serio le storyline di B&D Elite durante un'intervista, ed è una persona che è in questo podcast, di cui non farò il nome, che ha iniziato a spalare merda su ste roba, e poi mi ha detto, guarda che sono delle storie di B&D Elite, si è scusato dicendo... Eh no, ma io lo dicevo comunque a livello ipotetico. Non faremo il nome, ma faremo il cognome, Denardi, persona che a quest'ora solitamente è a dormire, per darvi un altro inizio. Esatto, io sono vecchio, e queste cose qui sono cose per voi giovani, quindi io... Per voi giovani, ma che ero più o meno la tua età io, non è che sono poi tanto più giovane rispetto a te, più che altro. Vabbè, ma io sono vecchio dentro. Ecco, questo sicuramente, non lo dubbi. Questo l'abbiamo purato. Comunque, no, a parte gli scherzi, cioè praticamente era uno scherzo, anche la storyline, la tensione tra Keny Omega e... Grazie, è stato il garante che conferma. Esatto, sono tutte cose praticamente che comunque loro portano avanti per i fatti loro. Sì, portano avanti per i fatti loro, ma comunque, per dire, gli stessi revival hanno fatto dei video... Sì, stanno, diciamo che i revival stanno al gioco. Stanno al gioco. Sì, fanno finta di prendersi, però comunque stanno al gioco. Sì, anche perché comunque non sono scemi, sanno benissimo che se i Bucks un giorno arrivassero in WWE, comunque su questa cosa ci puoi anche fare dei soldi, quindi alla fine... Tra l'altro c'è anche... C'è il... Praticamente c'è una storyline in cui a Nick, nella realtà, hanno rubato il portafogli e il passaporto, e praticamente c'è un video fatto dai revival dove sono loro che vanno in giro con i documenti. Con un passaporto, con un passaporto. Quel passaporto, quindi è fatto tutto... Sì, per ridere. Comunque dico che sono d'accordo, però comunque sono... Sì, dico, non escludo che questo... Poi comunque sono amici. Season Desist, per quanto vero, sia, diciamo, un aiutino. No, secondo me il Season Desist esiste... È assolutamente vero. Il Season Desist è assolutamente vero. È un'altra cosa. Riguarda un'altra cosa. Il fatto è questo, è la tipica cosa... Andiamo con ordine, più che altro, perché spieghiamo come mai si è arrivati a questo Season Desist. Lunedì, praticamente, i Bucks erano a... Dove era Roe? In California, era comunque. Sì, Anaheim. Anaheim. Cominazione... O a Las Vegas, non mi ricordo. No, erano in California. Las Vegas. No, Smegnon era Las Vegas. Che cazzo a Smegnon? Smegnon era Las Vegas, settimana scorsa, proprio che altro. Settimana Roe era in California. E anche Smegnon, credo fosse in California. Comunque, combinazione, praticamente, i Bucks, Cody Rhodes, la moglie, Brandy, Marty Scurl, Hangman Page, combinazione si trovano nello stesso posto. Non si sa il motivo. Organizzano, praticamente, una sessione di autografi, che, va detto, è anche abbastanza rara, più che altro per come agiscono solitamente gli Unbox, all'hotopic della zona. Che combinazione è, a poco, dall'arena dove si svolge Roe. Poco pubblicizzata, pubblicizzata, praticamente, la sera prima su Twitter. Si presenta, comunque, una buona quantità di gente. Decidono i Bucks e tutti gli altri di andare a Roe. Di fare, praticamente, la parodia dell'invasione della DX alla Dabiscina. Parodia fatta, prendendo, tra l'altro, molti tratti dell'originale. Parodia, barra citazione, praticamente. Io devo ancora vedere. Era una cosa, palesemente, per ridere, più che altro. Si, si. Cioè, a un certo punto, Cody Rhodes sale sulla macchina, recita a memoria il discorso dei precedenti di Independence Day. Che non c'entra assolutamente nulla. Casissimo. Assolutamente a caso. Ma a casissimo, proprio, tra l'altro. Credo anche che in parecchi sapessero, o quantomeno sono abbastanza informati. Eh, no, la cosa era uscita, sì, la cosa era uscita, praticamente, qualche ora prima, alla fin fine, su Twitter. Sì, sì, sì. Quindi, non so quanti sapessero, però, comunque, comunque... Qualche fan è arrivato. No, c'era un buon numero di fan fuori dall'arena, effettivamente. Più che aspettavano ogni attacco. Anche da dentro, comunque. Sì, sì, da dentro probabilmente qualcuno sapesse. Esatto, per dire, Jimmy Jacobs è uscito a fare una foto. Esatto, sì, c'è. Comunque, vabbè, fanno questa cosa, alla fin fine. L'unica cosa che, questo cito dei Meltzer, che dice, ora hanno filmato l'unica cosa con cui la WWE magari poteva avere qualche problema è il fatto che, come fecero quelli della DX alla WCW, hanno intervistato dei fan che hanno detto che entreranno gratis, praticamente. Quello, effettivamente, diceva Meltzer, poteva dare fastidio. Però, diciamo, sul momento, la cosa, dallo stesso Dave Meltzer, che lo chiamava comunque molto amico dei Bucks, è stata anche abbastanza minima. Esatto, sì, sì, più di uno, anche, aggiungo. Comunque non è il loro amico, è il loro zio. Ok, è vero, dimenticavo. Dicevo, ovviamente non è il suo zio, però in storyline è il loro zio, perché loro lo chiamano Uncle Dave. Sul momento, la cosa, diciamo, è stata abbastanza minimizzata, tutto sommato. Invece, quando, come peraltro disse Hulk Hogan in un tweet di qualche... L'hai visto ieri da Matthew? Sì, ma mi è venuto in mente immediatamente, praticamente, ogni volta che succede una cosa di questo tipo, mi viene in mente quel tweet lì, più che altro. e devo andarlo a prendere, perché in italiano non, diciamo... No, è un mezzo scioglilingue in italiano. Esattamente, esattamente. È tipo, don't be a jabroni Mark, that work yourself into a... You work yourself into a work... Qualcosa del genere, se non lo ricordo. È uno scioglilingue. Devo andarlo a prendere. La WWE, pare, non abbia apprezzato questa cosa. Inutile dirlo, più che altro, perché... Quando mai la WWE, negli ultimi anni, o comunque nella sua... Diciamo, nella sua storia, è mai stata particolarmente... Particolarmente, come posso dire... Per malosa. Per malosa, volevo dire. Al gioco negli scherzi. Esattamente. Praticamente, la WWE ha mandato... Ecco qua. Goodbye, Hulkamaniacs... Ho trovato il tweet. Good night, Hulkamaniacs and Jabroni Marks with a life that don't know it's a work when you work a work and work yourself into a shoot. Marks. Ecco qua. Questo è il tweet. Praticamente, nel 2011, tra l'altro. I sei anni fa. Sì, sì, sì. È vecchissimo. Era il periodo in cui anche ritwittava la gente che diceva... Ehi, oggi sono dentro con... Esatto. Con le palle fino in fondo a tua figlia. Esatto. Qualcosa dice. Diciamo che non è mai stato... Non è mai stato praticamente particolarmente... Come posso dire... Particolarmente... Attento sui social. No, in grado di usare Twitter, più che altro. Sì. Comunque, tornando a noi. La WWE, pare, non l'abbia apprezzato. La WWE non ha apprezzato e... Quello che era una storyline, praticamente, è diventato uno shoot. Cioè, la WWE ha effettivamente spedito questo... Questa diffida, questo cease and desist, ai... Ai Bucks. Solo ai Bucks, tra l'altro, pare. E gli ha intimato di smettere di usare... Cioè, non tanto sulle parodie, su Fuck the Revive, di questo tipo. Il punto della questione è il too sweet. È il gesto che, in verità, è vent'anni che si fa all'interno... All'interno del show di wrestling. Che la WWE afferma essere un proprio copyright. Non si sa in base a cosa, più che altro. Nel senso, la WWE non è riuscita a mettere sotto trademark il gesto del too sweet come too sweet. È riuscito, però, a tenere un trademark chiamandolo click and gesture, se non ricordo male. Ed è un trademark, però, del 2015. I Bucks usano il too sweet da quando? Nel 2013, credo. Da quando sono entrati nel Bullet Club. Nel Bullet Club, ora sono entrati nel 2013, più o meno. Quindi, effettivamente, sembra... Infatti, tipo, se vi ricordate un paio di mesi, quando era venuta fuori questa cosa, non mi ricordo, se Nico e Matt avevano fatto un tweet dove dicevano fate il too sweet, faccio il too sweet prima di essere denunciato. Prima che mi denunciino. Una roba del genere, comunque, scrisse. Proprio per raccontare questa minchiata con lo sai che ha fatto la WWE. Perché è una minchiata, obiettivamente. No, più che altro, cioè, la logica, probabilmente, della WWE è che, siccome loro possiedono una WCW, cioè, possiedono una WCW, siccome loro sono comprati ad WCW e relativi trademark, secondo loro possiedono anche il gesto, praticamente, del too sweet, perché lo facevano o le Nash. No, la cosa assurda, secondo me, è che le hanno sisedesistati. Diffidati! Diffidati, esattamente. Diffidati. Per il merchandising. Perché comunque loro... Per il too sweet? Sì, vai. E non per il socket. Sì, ufficialmente, non ho detto che non lo facciano o non ho detto che effettivamente ci sia anche questa cosa all'interno del season design. Noi sappiamo solamente del gesto, praticamente, del too sweet. Comunque, cioè, è anche difficile, difficile, praticamente, trovare una paternità di questo gesto, perché comunque quant'è? È vent'anni che lo fanno, cioè, lo facevano Nash e Michaels, poi lo hanno fatto effettivamente in WCW. Tra l'altro, Kevin Nash, in un'intervista su www.com, un attimo solo che vado a riprendere, ha ammesso che questo gesto arriva da una squadra del Minnesota. Adesso non ricordo quale, non ricordo quale, sfortunatamente. Devo andare a riprendere il tweet, il tweet, scusa, il copincolla che ho fatto l'altro giorno. Comunque, praticamente, non è una cosa che si sono inventati loro, è una cosa che hanno preso da un'altra squadra. E tra l'altro, anche lo stesso Nash ha ammesso, praticamente, che loro hanno tentato di mettere sotto trademark Wolfpack, ai tempi, con la K, e non ci sono riusciti perché era appunto già registrato da questa squadra del Minnesota, e quindi sono riusciti a registrare Wolfpack con la C, cioè senza la K, quindi è una questione molto, 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 molto ingarbugliata, diciamo, dal punto di vista legale. La sensazione è che la WWE, dal punto di vista legale, non è che abbia sto grandissimo appiglio, più che altro proprio perché comunque la questione è molto curiosa. Però, attenzione, però, attenzione, però, attenzione, come Mr. Burrs aveva i dieci avvocati più pagati di Springfield, qui è una questione di soldi, cioè nel senso, siamo sicuri che i Bucks vogliano entrare, abbiano voglia più che altro di entrare in una battaglia legale molto dispendiosa dal punto di vista monetario, solamente per una questione di principio, la vedo molto difficile che ciò avvenga, è ovviamente un tentativo di prova di forza da parte della WWE nei confronti di Bucks. Allora, io te l'ho detto il mio pensiero, anche perché questa cosa è arrivata praticamente il giorno dopo che hanno fatto questa roba qua. Sì, è chiaro che è una reazione a quello, cioè è chiarissimo. È chiaro che la WWE ha rosicato e quindi, diciamo, se l'è presa. Ma non è solo la rosicata, semplicemente, allora, i Bucks comunque su queste cose ci stanno giocando tanto, li stanno sfottendo da parecchio tempo e la WWE è una presa in giro comunque buon'aria, cioè non è proprio un insultante. Assolutamente, no, no, ma alla fine non li hanno mai insultati apertamente, anzi, loro hanno sempre detto che più avanti, quando sarà il momento giusto, loro comunque in WWE ci potrebbero andare, cioè non è che hanno mai nascosto il fatto che non potrebbero andare in WWE o che non ci vogliono andare. Anzi, vai. Anzi, hanno sempre detto, comunque sono sempre stati propositivi su questa cosa. Certo. Semplicemente, penso che sia successo questo, la WWE gli hanno fatto questo scherzo, la WWE li ha sempre ignorati perché alla fine erano bonarie, a Strogiro gli hanno fatto questo smacco, perché chiamiamolo, è un po' uno smacco quello che gli hanno fatto a questo smì, cioè, sì, è una presa in giro più che altro a cui la WWE reggito male. Esatto, è una presa in giro che questa volta gli ha fatto girare un po' più le balle del solito e questo giro si sono incazzati e gli hanno fatto e gli hanno dato il case in desist, però era obiettivamente... Il case in desist, il season in desist. Sì, 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 season in desist, ho sbagliato, scusate. Ma di di fida, cioè... Di fattore di fida, sì. Di fattore di fida. Il daspo. No, non è il daspo. No, tra l'altro, la cosa singolare è che questo season in desist, questa di fida, al momento pare sia solamente per i Bucks, quindi gli altri praticamente potrebbero utilizzare il 2Suite e tutte le altre cose all'interno. Sì, sì, semplicemente... Adesso si può veramente creare una scena all'interno dei match del Bullet Club dove gli altri si fanno il 2Suite e i Bucks stanno lì sconsolati praticamente all'angolo perché potrebbero anche farlo, certo, naturalmente. Esatto, possono creare una storia anche da questo. Secondo me, comunque, ripeto, c'è molto anche di marciarci sopra da entrambe le parti. No, secondo me no. Cioè, dai Bucks probabilmente adesso ovviamente useranno la cosa, però ovviamente la cosa non gli fa piacere ai Bucks. Cioè, riceve comunque una minaccia legale da Davide B. non fa mai piacere a nessuno. A Davide B secondo me non credo ci marci sopra, cioè la Davide B secondo me è proprio incazzata, per motivi completamente futili peraltro, cioè, assolutamente futili. Ci sono incazzati perché gli hanno fatto la stessa cosa che hanno fatto loro alla WCW, però quando l'hanno fatta loro andava bene, quando gli hanno fatto... Eh, esatto, sì, è la classica ipocrisia da Davide Bucks. E anche perché sa che a livello di affluenza in questo periodo fanno fatica e non vogliono mostrarlo, diciamo, è il fatto che comunque i Bucks... No, ripeto, ma se si fossero lamentati del fatto che comunque i Bucks nell'ultimo Bindy Elite hanno preso un fan che ha ammesso praticamente che sarebbe andato gratis a vedere... Che tra l'altro va detto, è la stessa cosa che ha fatto la DX, cioè, se tu andate a vedere il filmato, vanno a prendere gente che dice, ma hai pagato per andare a vedere... Ha detto, ma sei scemo, ma neanche è morto, dice questo fan. Quindi, la stessa identica cosa, cioè, l'ennesima ipocrisia della Davide B. Ci siamo abituati ormai, cioè, comunque non mi sorprende, non mi sorprende minimamente. Cioè, mi spiace, però comunque è una cosa comunque di questo tipo. Più che altro, ripeto, è un tentativo di prova di forza da parte della Davide B, perché giustamente i Bucks, bisogna vedere se possono anche permettersi una battaglia legale, su una questione di principio, una battaglia legale che magari possono anche vincere. Però, dal punto di vista monetario, comunque è una battaglia molto distendiosa, sicuramente, perché comunque vai contro un colosso come la Davide B, che comunque può permettersi avvocati, probabilmente enormemente migliori, sulla carta, praticamente, lo stesso Jerry McDavid, che è uno degli avvocati più temuti, praticamente, dal punto di vista legale, per quanto riguarda le cose legate al mondo delle Vresti. Vediamo, vediamo cosa succederà, se la cosa proseguirà, naturalmente, nei prossimi... E poi sono amici del Capo Supremo, che non fa mai male. Vabbè, non è che il Presidente degli Stati Uniti può corrompere i giudici, non credo che sia... No, lo so, scherzando. No, Eric, ti stupirebbe se succedesse. No, però sarebbe leggermente illegale, sai com'è? Ma giusto un attimo, eh? Ma giusto un attimo. È illegale, da mesi sto qui. Vabbè, lascia stare. Quello è un altro discorso. Lascia stare, lascia stare. Vabbè, comunque, vediamo cosa succederà con questa battaglia legale, più che altro, da parte della WWE e vediamo cosa uscirà, praticamente, con, appunto, se si andrà eventualmente a processo, se magari, semplicemente, semplicemente i Bucks smetteranno di utilizzare il 2Suite. Ripeto, al momento pare che non possono utilizzarlo solamente loro, mentre invece gli altri, praticamente, pare che al momento, al momento, non abbiano... Io te l'ho detto, secondo me, semplicemente, vai. Secondo me, non hanno, in questo caso, mi pare palese che la WWE gli abbia fatto girare il culo, la presa in giro. Sì, beh, ovvio, hanno raggito male. E gli hanno fatto sta roba. Hanno raggito male, ovviamente, sì. Mi pare abbastanza palese che la cosa sia questa, cioè, non che, cioè, semplicemente gli hanno girato le palle, gli sono girate le palle, hanno detto, cosa facciamo per vendicarci? Facciamo che... Allora, dai, vabbè, li denunciamo, così magari imparano a farsi cazzare. Esatto, sì. Ripeto, anche se magari... Denunzia. Che comunque la WWE, forte, diciamo, della sua potenza economica, può permettersi più che altro. Mentre i Bucks, magari no. Tutto qui. C'è una domanda. Non mi stupirebbe neanche se... Cioè, magari vanno anche in tribunale. I Bucks vincono facile perché non c'hanno niente, ma semplicemente la WWE gli ha fatto vedere che loro possono denunciarli quando cacchio gli pare. Sì, e intanto magari li hanno, diciamo, li hanno anche spiumati dal punto di vista economico. Sì. Quindi vediamo, vediamo, vediamo che succede. Ma anche la WWE si serve dell'avvocato tucco. No, no, non so di che avvocato si, diciamo, si serva più che altro la WWE. I Bucks, se vogliono buttarla in vacca, secondo me i Bucks arrivano con un avvocato che ragiona tipo Lionel Hatz. Però la vedo un po' difficile. Comunque, Eric, il fatto che tu gli abbia dato, gli abbia risposto seriamente a Fabio per questa domanda idiota... Eh, sai com'è, sai com'è, sai com'è. Vabbè, questo è quanto per quanto riguarda questa situazione legale, per quanto riguarda i Bucks, vediamo cosa succederà tra l'altro con loro. È il momento però intanto di, diciamo, di proseguire. Di andare al Tempio. Eh sì. Esatto, perché purtroppo da Orlando questa settimana non si può passare. Sì, perché più che... No, ma no, vogliamo parlare... Orlando passiamo, cioè NXT... Non ho visto niente. Vogliamo parlare un secondo del fatto che abbiano... Tu non hai visto NXT, io sì. No, dicevo, vogliamo parlare un secondo del fatto che sono usciti finalmente i biglietti di Bamford Glory? Si sono degnati praticamente di farli uscire. Il posticino va detto che non è molto ampio Perché comunque è settato A occhio È settato per 700-800 persone Adesso vi passo la piantina Appena la ribecco Perché l'avevo qui più che altro E non ce l'ho sottomata Vai No, dicevo È il fatto Che loro abbiano già rinunciato In partenza a fare qualsiasi cosa Sanno già che avranno una fabbrica bassa E che probabilmente non riusciranno neanche a riempirlo Quel posto No, vabbè Probabilmente riusciranno a riempirlo Ci sarà gente invitata dal presidente della compagnia Visto che è canadese Vi faccio vedere un attimo Ecco la piantina, eccola qui La potete aprire Io metterei più che altro in risalto Se riuscite a vederli La sezione B Guardate come è piazzata La sezione B Io mi chiedo cosa vedano i personaggi Che saranno piazzati nella sezione B Bello Completamente storta rispetto a riempirlo Esatto Spero che sia messa diversamente Se proporzionale No, no, no Io lo so cosa guardano Quindi la sezione B Guardano il pubblico No, guardano il tavolo di commento Che dovrebbe essere davanti a loro Esatto Però c'è anche un tavolo di commento Sulla passerella Esatto, sì No, non è sulla passerella Il tavolo di commento No, ce ne sono due in realtà Sì, giù per la sezione B Sì, esatto Non so se nel tavolo di commento È talmente un evento Della Madonna Che hanno addirittura Due team di commentatori Tra l'altro La tristezza In cui sono indicati Il bar E il stand Del mercantino Sì Abbastanza triste Sì, la piantina Messa così Effettivamente Abbastanza triste Allora, se conti i posti Non si piscia Leo Esatto Devi stare quattro ore A guardare solo io Anche perché Considerato Il tipo di show Che potrebbe venire fuori Probabilmente ci sarà Anche di più Da pisciare Vabbè No, vabbè Magari lo so Viene anche carino No, no Scherzi a parte No, dicevo Dicevo più che altro Guardando Contando proprio fisicamente I posti Secondo me Allora Bordoring Sono 3, 6, 10 Per 8 file Quindi 80 160 240 320 Eh, saremmo intorno 600 posti 600-700 posti Contando i bleachers Più che altro Magari un po' di più Mi è appena arrivata Una notifica Ah sì? Sì Da chi? Che c'è arrivata Anche a noi una diffida Ah sì? Da chi? Di grazie Da parte di una Da parte di un'associazione Sì Che dice Che dobbiamo smettere Di parlare male Della TNA Perché è colpa nostra Se la TNA Non va in onda in Italia Ah, sono ancora loro? Eh, sempre loro Sono ancora vivi Vanno per vie legali adesso Sì, ok Devi solo dire Che è tutto bellissimo Ma non lo è Non posso dirlo No, devi dirlo Non posso dirlo Ci saranno 70.000 persone Ma cosa? Ma se ne tiene 3.000 Vuoto Ne tiene 3.000 Quel posto di figura Di Goal 7 Noi non parliamo male Della TNA Noi parliamo male Della Come cazzo si chiama? L'Antem Di Impact Sì, adesso si chiama Di nuovo Impact Wrestling Hanno di nuovo cambiato la sigla Hanno tolto la sigla GFW E quindi tornano le cinture di prima Teoricamente sì C'è solo un problema Hanno già registrato tutto Fino a novembre Quindi comunque Rimaniamo con questi titoli Fino a Banford Glory A Banford Glory vediamo C'è un piccolo problema Perché il nome GFW Non lo possono usare Comunque ripeto Basta Smettila Vai avanti Andiamo avanti Basta Parla male di TNA Esatto Parliamo di Parliamo male della WWE Così magari non va più Io non ho niente Contro Io non ho niente Contro Impact In mano in questo momento Quindi Non posso parlarne male Diciamo Comunque parliamo male Parliamo male Della WWE Così magari non va più Io ho visto un pezzo di Ma non è stato neanche male È stata una puntata Molto legata al wrestling Cioè di Angle Di Angle da fin fine Non ce ne sono stati No anche perché L'hanno presentato Come un simile pay per view Sì esatto Classico pay per view In chiaro Che ormai hanno Che ormai Che ormai fanno Non puro di tempo Enrico Io ho un'idea Per evitare Per rendere più contenti Queste persone Ma non me ne farei un cazzo Di farle contenti Quelle lì Per evitare Allora Parliamo male Della WWE Sì Così smettono Di mandare In onda In onda In TNA Ma non credo Ma guarda C'era un canale Che mandava In onda In TNA In Italia È fallito Quindi Non è che Insomma Comunque dicevo L'abbiamo fatto L'abbiamo fatto fallire noi No non è fallito Il garante Ci hanno messo Dell'oro Fidati Vai tranquillo Il garante Ci dice Facevo meglio Su The Sims Può essere Può essere Comunque stavo guardando E secondo me Gli spettatori Venivano pagando Stavo guardando Stavo guardando Più che altro Il sito Dove Dove vendono Praticamente I bigli Eccoci qua Impact dressing Bound for glory Allora Praticamente vendono Ve lo dico subito Vendono Il pacchetto completo Da sei giorni Praticamente Che comprende Che costa Allora No c'è qualcosa Che non quadra Allora Full package Impact dressing Border ring Fila 1 a 3 115 dollari Mi sembra un po' strano Che sia così poco Più che altro No mi sembra Che erano 800 Se vai sul sito Mette 115 però Quindi non è Sai cosa Magari Non c'è Non c'è praticamente Il VIP Alla fine In questo pacchetto Però poi prendete Comunque i biglietti Bord ring Ma non ha senso Non ha minimamente senso Boh Vabbè Comunque Date a vedere sul sito Più che altro Alla fine Ma quindi con 200 dollari Ti fai tutto il weekend Che weekend Vanno da domenica a giovedì Tutta la settimana Sì esatto Domenica a giovedì Sì Oh io non me lo lascerei scappare Poi 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 Stai Poi stai a 8 O più che altro Non vedi assolutamente nulla Ma infatti Spendi 200 Vai lì Solo per fare quello Vabbè Comunque No vabbè Speriamo che vada bene Naturalmente Tra l'altro Notizia di oggi Pare che la TNA Voglia Nuovamente tentare La strada Dei Notizia di oggi Venerdì Per noi che stiamo Esistendo Cioè venerdì Pare che la TNA Voglia di nuovo Tentare la strada Dei taping In giro per gli Stati Uniti Praticamente Pare Pare che Stiano considerando Potrebbero tornare Comunque in Florida Però Pare che stiano Adocchiando Come sedi per i taping New York Toronto Chicago Cioè comunque Zona di New York Zona di Toronto E zona di Chicago Nel 2018 Perché comunque Ricordiamo che Con i taping Che si svolgeranno Dopo Banford Glory Dal 6 Al 10 Praticamente Qualcosa del genere Arriverremo a coprire Praticamente Tutta la fine dell'anno Quindi comunque Poi la TNA Fa Banford Glory Fa i taping E poi Fino inizio 2018 Non la vediamo più Loro possono fare Loro possono fare I taping In queste città Perché ormai Facendo Stai giorni Sai cosa No ma più che altro Devono trovare posti Più che altro Dove valga la pena Fare eventualmente I taping A livello economico Cioè per esempio Questa arena qua Questo posto qua Che hanno trovato A Ottawa Comunque loro Non oleggiano 8000 dollari al giorno Che non è un cacchio Oggettivamente È vero che è un posto Dove non c'è niente Dove tant'è che dovranno Fare gli spogliatoi Dovranno fare i bagni Dovranno portarsi Comunque dietro Delle robe Perché comunque È un posto È praticamente Un convention center Non è un'arena Finalizzata a ospitare Eventi di questo tipo Però comunque 8000 dollari Effettivamente È un buonissimo Diciamo Fitto Praticamente Per questa struttura È molto molto basso Oggettivamente Quindi È una buona cosa Vediamo se gli conviene Da un punto di vista economico Fare I paper Perché comunque Io ho i miei dubbi Che Per Banfordori Potrebbero anche andare bene Fare 700 800 Quello che è Il problema sono gli altri giorni Cioè gli altri giorni Secondo me Martedì Mercoledì Giovedì A Ottawa Secondo me rischiamo Anche di avere 200-300 persone Questi tapings Cioè comunque Sono Con un'arena Praticamente deserta Quindi non so Sono comunque Più persone di Smackdown No non è vero Non è assolutamente vero Non è assolutamente vero Di Smackdown WWE Fai schifo Viva la TNA Per quanto vada male Smackdown è comunque Molta più gente Rispetto Viva Impact Comunque Tornando Parlando di Impa Vogliamo anche dare Diciamo Come Possiamo Possiamo Cosa possiamo Dire Possiamo dire Più che altro Un'altra cosa Possiamo mettere Più che altro sottofondo Ecco qua Perché ci ha lasciato Un altro personaggio Della TNA Di Impact No non potevi mettere Leave the Memory Salone Anche Vuoi mettere Leave the Memory Salone Sì perché Perché visto che Allora Purtroppo Cioè è una cosa buona Perché comunque Non c'è gente Che perde il lavoro E tutto il resto Però Ok In un po' di anni Non ci sono più Le ondate di licenziamenti WWE Diamo tempo Il tempo Perché potrebbe Sempre accadere Dai tempo Ancora un anno Esatto Un attimo Mettiamo Unifichi Nei roster Esatto E quindi Visto che non ci sono più Queste Ok Ondate di licenziamenti Non c'è più Il meraviglioso video Che c'era ogni anno Con l'Israel No no C'era È uscito Credo Il Il Future Endeavor 2016 Più che altro Aspetta un secondo Che vado Controlla Perché mi sembra Che non lo fanno più Non essendoci più No 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 C'era qualcosa Qualcosa Sì era l'anno di JTG Buonasera Moreno Intanto Ma JTG è stato licenziato Nel 2015 Ah sì Eh sì da mo' Vabbè Anche 2014 Dato un attimo Perché posso rimanere giusto Un attimo Perché poi Ho ancora Eccolo qua C'è c'è Eccolo qui nel 2016 Dura 4 minuti e mezzo C'è 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 Passamelo Eric Voglio piangere stanotte La canzone che hanno usato Non mi ricordo Non mi ricordo Era un'altra canzone Comunque c'era C'era Beh ecco Come Allora si apre con Bull Dempsey Poi prosegue con Oddio Quello là dei francesi Che è poi andato anche in TNA Marcus Lewis Ah Silvestre Lafor Marcus Lewis Silvestre Lafor Poi Orswaggle Poi Alex Riley Ovviamente Zeb Colter E il Torito Cioè comunque ci sono Tutti quelli che Cameron E tutta gente che Si è andata via nel 2016 Più che altro Santino Marella Riley Mai troppo rimpianto Ma vaffanculo Parla per te per favore Comunque vabbè Sei tu my face Ok Implodi Fabio Esatto Esattamente Hai cambiato Hai cambiato Nick Vedo Moreno Questa sera sei Ushigaroshi Sei nella nostra Nella nostra chat Eh sì Non dovevi dirlo Martian Pet Ah perché non dovevo dirlo Scusami Cose mie Ah ok No vabbè Comunque Vorrei fare notare Che comunque Se vuoi fare il nome Della mossa È Ushigaroshi Non Ushigaroshi Lo so Lo so Eric Ho capito Tutto studiato Ah ok Perfetto Va bene Scusami Non lo sapevo Non lo sapevo No tornando a noi Più che Vabbè Mettiamo in sottofondo La canzone Un attimo solo Che adesso Adesso gli fa da partire Ecco Grazie Perché un'altra persona Ha lasciato la TNA Si tratta di Robby Che È un giorno triste Per noi appassionati È una gravissima perdita Questa Per noi appassionati Del vero resti In questo è un giorno triste Ma cosa Vabbè Robby non è mai stato Praticolarmente un fenomeno Diciamo Intendiamoci Cioè Onesto Onesto Lavoratore Però comunque Noi Da uomini Dobbiamo solo Dobbiamo solo Toglierci il cappello Di fronte a Robby Perché è stato fidanzato Per anni Con Brooke Adesso non è più Non è più Finanzato con lei Perché adesso È sposato Credo che sia anche Diventato padre Di recente Tra l'altro Beh anche Brooke È madre Adesso Esatto Esattamente C'è qualcosa C'è qualcosa Nell'aria Nel mondo del restim Che abbiamo Brooke Che è incinta Maria Canellis Che ha annunciato Brooke Ha già partorito Ma tipo l'anno scorso No ma dovrebbe essere Un secondo adesso Ne è un secondo in arrivo Sì è vero Poi abbiamo Abbiamo Come si chiama Abbiamo Maria Canellis Che è in attesa Marise Che è incinta Christy Emmy Che giustamente Vuole strafare Ne aspetta quattro Quindi c'è È un periodo È un periodo Comunque È un periodo Di diciamo Di gravidanza Nel mondo Nel mondo Connor è diventato padre Giusto Connor è diventato padre Sì però Sì lei tra l'altro È un'ex dotatrice Perché comunque Lei aveva fatto Un angle Con Tory Wilson A Smackdown Cioè dove aveva fatto L'angle per iniziare La rivalità con Con Tory Wilson A Smackdown Anni fa E poi è stato Praticamente ha mollato Subito la compagnia Cioè proprio qualche giorno dopo Perché aveva Aveva tipo nostalgia O comunque non riusciva A stare lontano Dal fidanzato Barra marito All'epoca Non mi ricordo Che credo fosse tra l'altro Proprio Connor C'è un messaggio importante Del garante Che dice Nicky vincerà Dancing with the Stars E poi farà Vediamo 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 Quanto dura Ancora Nicky Bella In quello show Comunque andiamo avanti Dicevi Poco speriamo Esatto Moreno vai Scusate posso fare giusto Una piccola La mia Sul Ring of Honor Sì Va bene Perché sono bloccato in auto Fintanto Vai Vai pure Allora Visto il pay per view Ring of Honor Buon pay per view L'ho visto anch'io Buono Bel pay per view Sono rimasto molto sorpreso Da Chuck Taylor Più che altro Perché lo conoscevo Soltanto Ah ok In quel senso Per via dei video Stupidi con la bomba O roba del genere La granata Sì Esatto Non mi aspettavo Una prestazione del genere Lui è un ottimo Lottatore Poi chiaro Fa comedy Fa comedy Ma però Lui Cioè Non è l'ultimo Degli stronzi Ma quella non era una Presuzione da semplicemente Ultimo degli stronzi No no Anzi Ma infatti ho detto Che non è l'ultimo Degli stronzi Lui E anche campione PWG L'hai vista L'hai vista La serie Praticamente Chuck Taylor Is a serious wrestler Su Sì sì L'ho vista Quella è molto famosa Diciamo Sì Poi vabbè I match dei Bucks È piaciuto un casino Vabbè Che novità I Bucks che fanno un bel match Eh sì Ma guarda Io in genere Sono una di quelle persone Che odia quando sono le intermission E invece in quel momento È stato proprio il momento Che ho più adorato del match Ok È stata fatta benissimo E poi Cavoli come è caduto male Eh sì Per fortuna sta bene Sì A quanto pare Però Poteva andare molto male Sì Ma di gente che è caduta male Ne parleremo Al tempio Sì Esattamente Esattamente Minchia Sentiamo Sentiamo Cosa pensa Chuck Taylor Di tutto questo Perfetto Grazie Chuck Taylor Questo è l'urlo Eh Il tempio dovremmo parlarne Perché sono un po' di cose Eh sì È stata una bella puntata Però possiamo eventualmente Aprire una discussione su quel match Vabbè Poi Lasciatemi giusto a finire Vai finisci Finisci pure Scusami vai Minoro Suzuki Contro Contro Cody Rhodes Scarsino Oggettivamente Non un bel match Ma si sapeva Ma si sapeva Più che altro Che comunque sarebbe stato Un brutto match Sì Sai cos'è che mi è sembrato Più che altro Sì Quando fai un Il gran finale Dei fuochi d'artificio Sì Hai in mente che finisci Con il razzo più grande Con le spose più grandi In genere Sì È arrivato Effettivamente è arrivato Un pochettino da nulla Il finale di questo match Esatto Soltanto così Soltanto quello E boom Finito L'ho trovato anticlimatico Esatto Quello sì Quello sono d'accordo Ma perché 4G Cazzo Cosa stai facendo E sto giocando A forza Motorsport 7 Ah ok Perfetto Sì L'hai preso L'hai pagato 70 euro L'hai preso scontato Alla Games Week No Non l'ho preso Scontato di ben 5 euro Rispetto al prezzo originale Grazie a Dio L'ho preso L'ho scaricato L'ho scaricato Solo 68 giga Ma mi è stato detto Che la versione 4K Sarà molto più leggera Sì Vabbè che tu hai un monitor Hai un televisore 4K Adesso Sì Dovrei prendere Poi anche la console Ovviamente Sì no La prenderò Ah ok Già prenotato Ok L'ho già prenotato Il problema Che peserà 93K 93K Scusa No ma guarda In realtà Il download Se uno lo scarica È 95 Perché comunque Il disco è tipo 40-45 giga E poi ce ne sono 50 extra Perché più gatto Poi devi scaricare Tutte le macchine Bene così E ho messo solo Un disco da un tera Dentro Va bene Lascia perdere Lascia perdere Se volete recuperarvelo Guardate il moonsault Da legato di Eggman Page Notevole Notevolissimo Notevolissimo Bellissimo Sì Page è un ottimo Page per avere È del 91 Page se non sbaglio Ma lui è un fenomeno Secondo me Sì Lui è È un po' È un po' Sopra Sai cosa più che altro Gli mancava il personaggio giusto Alla fin fine Sì Perché comunque Lui Ha bisogno della gimmick giusta Per il match Questo Con l'ingresso Nel Bullet Club Effettivamente Con questo Con questo cambiamento In Eggman Page Lui effettivamente Sta facendo bene Sta facendo bene Sta dicendo Poi vabbè Bullet Club Bullet Club Bullet Club Praticamente È over Cioè renderebbe over Chiunque Praticamente Ormai Quindi Era Comunque Il suo feud Con B.J. Whitmer Fu comunque un bel feud Vero Sì È vero È vero Con Roddy Comunque Eccola Scusa un attimo Devo interrompervi Perché Parlavamo prima Dei Bucks Guardate Cosa è appena uscito Su Pro Wrestling Tees Dei Bucks Eccola qui La potete vedere La maglietta La maglietta Season Desist Con Too Sweet Censurato E la scritta Censured Praticamente Bellissima Che fai Sai che gliela comprei Quasi quasi gliela comprei È bellissima E proprio appena uscita Ma guarda che le trovate Che hanno questi due ragazzi Sono incredibili Sì è vero Sì Va detto che sono trovate Anche tutto sommato Nemmeno troppo fantasiose Tutto sommato Perché comunque Fare Faramete di questo tipo Non ci vuole nulla Però più che altro Effettivamente Loro sono Sono molto bravi a vendersi Effettivamente Sì esatto Perché poi probabilmente Questa maglietta venderà A voglia A voglia Ma basta Basta solo vedere Quando ci sono i taping In Stice Gran parte delle magliette Del pubblico Sono le Bullet Club Se andiamo a vedere Sì infatti Poi contando anche il fatto Tra l'altro Che le magliette Le Bullet Club E tra l'altro Tra poco Anche quelle Di Los Ingobernables Saranno vendute E sono vendute Anzi Durante Su Hot Topic Sì Vabbè Tornando a noi Tornando a noi Più che altro Vai Moreno Per Smackdown Eh Sì Eh Cosa 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 Non ti è piaciuto Di Smackdown Questa settimana Guarda il fatto Che riesco Ricordare Soltanto una cosa Eh vai Ovvero Della Celebrazione Di Rusev Ma per il Semplice Fatto Che Quel giorno Ha conciso Con due Ottime notizie Che sappiamo In privato Eh vabbè Dai Lasciamo Lasciamo Alquanto Come dire Dimenticabile Come puntata Sì Effettivamente Effettivamente Sì No però Devo dire una cosa Non di Smackdown Un altro Promo di Enzo Tuo 5 Live Cioè sta Sta abbastanza Abbracciando Questa sua Questa sua Chiamiamo Il vero nome Lenzo Amore Show Non è più Lenzo Amore Lenzo Amore Show È giusto Così Finalmente Si afferma Si afferma Sì Io sono contento Che per una volta La WWE Abbia Fatto prova Di come dire A suo modo Di umiltà Con questo personaggio Cambiandolo In il Subito Sono davvero contento Beh Ma ci sta anche Che sia il A tuo 5 Live Perché lui È Aveva già La Storyland Dove S'era dichiarato Lì per forza Eh sì ma Io sono contentissimo Di questo Fabio Cioè io Ho il terrore Che lui Continuasse a fare Il Face Nella speranza Che loro Continuassero a dire È il nuovo Eddie Guerrero Ce lo buttassero in gola Così E invece Sono stati Lungimiranti Per una volta Sono molto contento Di questo Quindi Mi sta molto meno Sulle balle di prima Il problema Che tuo 5 Live È ben gestito Ha solo il problema Che non lo guarda Un cazzo di nessuno Io guarda Ho iniziato a guardarlo Ultimamente E sono davvero contento Io l'ho fatto Perché Davvero Questi li proponi Come degli stronzi Adesso A parte lunedì Che erano le main event Ma sapevo benissimo Perché erano le main event Perché c'era Enzo No Perché era la terza ora È la terza ora Ma anche perché c'era Enzo Se non ci fu stato Enzo In quella C'era anche Roman Reigns Nella terza ora Perché Roman Reigns Contro Demise È il match Ma è stato a fine seconda Poi come al solito A fine della seconda ora La gente scappa Sì esatto E va a vedersi Il finale del football Sì esatto Esattamente E con questa considerazione Va bene Ti salutiamo Dove sei diretto Libello Questa sera No Me ne torno a casa Perché al momento Sono a Losanna Ah ok Una serata Che ho filmato così Per allenamento Ok E allora Più che altro È che Abitendo in In Svizzera In campagna Ci metto sempre Un'oretta Per chiamare a casa Ho capito E c'ho il cane Che mi aspetta Il poverino Avrà anche fame Poveraccio Quindi No il cibo Glielo lasciato Ah ok Meno male Vabbè ci sentiamo Allora martedì Per il post Monetro Agli ore 22 Ok Sì io volevo Chiedersi una cosa Sì Ce la facciamo A farlo Universe ragazzi Proviamo Proviamo Vedere se Lunedì o mercoledì Riusciamo O magari tutte e due Le serate Riusciamo a fare qualcosa Ok Vediamo Anche perché poi Dovremmo poi Cominciare a lavorare Sul gioco nuovo Perché comunque Il gioco nuovo C'è tra tre settimane Alla fin fine Quindi Dovremmo poi Cominciare a lavorare Da quelle parti Tanto parlando di WB2K Purtroppo Per chi va A parte che la Games Week è finita Nel momento Che ci stai ascoltando Smettila Fabio Lo sappiamo Che stai giocando a forza Dicevo Per chi ci sta ascoltando Vabbè A parte che Ci stai ascoltando Unedì La Games Week è finita Però non era Prenotabile WB2K Tra i giochi Tra i giochi Dello stand E' vero peccato Visti i buoni prezzi Che ci sono Direi No E' ancora Prenotabile Credo Da un euro A 49,98 Se non avete Se non avete ancora Prenotato Tra l'altro Parlando di WB2K Il season pass Quest'anno Non sono convinto Cioè Ha ragione Quest'anno è un po' Una merda Il season pass Sì è un po' Un po' meno ampio Poscarlo Sai cosa Sai cosa Più che altro Credo che mirino a venderlo Per il fatto che ci sono gli Hardis Ci sono gli Hardis Comunque la gente lo compra Perché ci sono gli Hardis E vogliono gli Hardis L'anno scorso c'erano C'erano Il pack delle leggende Il pack di NXT Il pack delle future stars Ci sono anche quest'anno Però sono meno ampi Rispetto agli altri passati Sono cinque Sono cinque aggiunte Dieci Allora te lo dico subito Aspetta un secondo Allora Dieci aggiunte L'anno scorso L'anno scorso c'era NXT comprendeva praticamente Apollo Crews Naya Jax E Shinsuke Nakamura Ed era Quello già compreso Nella deluxe Nella deluxe Esatto Quest'anno nella deluxe Invece Ci sono C'è compreso Ci sono Vandamme Sai che alla fine Sai che alla fine Non c'era poi Sai cosa Sai cosa manca quest'anno Guardando La Hall of Fame C'è nel senso Il pack con i match Mancano le leggende No ci sono le leggende Ci sono le leggende Allora l'anno scorso c'era Goldberg era presente Nella per sale NXT se compriva Deluxe ce l'avevi Quindi parliamo di Tre lottatori sostanzialmente Poi abbiamo Brutus the Barber Beefcake Eddie Guerrero Greg the Hammer Valentine Psycho Sid E Tatanka Quindi 3 più 5 è 8 Poi il pacchetto Delle mosse nuove Austin Eris Carl Anderson Luke Gallo Smogioroli E Ty Dillinger Quindi parliamo di 13 lottatori in tutto Più il Diciamo il Il pack Delle mosse No il pack Delle mosse Il pack più che altro Dei match Della Hall of Fame Alla fin fine Che però non ti aggiunge Lottatori Alla fin fine Perché erano già presenti Erano già presenti nel gioco Quest'anno Alla fin fine Il pacco per quanto riguarda WB2K18 Però c'è ragione Che terminate Accendete Taglia 1 Perché vi beccate il finale Di un film capolavoro No veramente Se ci ascoltano Lui e lì è impossibile Esatto No ma dicevo a voi Ah ok No noi sì Vabbè All'11-20 c'è la raccia meccanica Al di là Al di là di Blade Runner Che comunque è un grandissimo film Esatto E che ricordiamo Uscirà in seguito Uno settimana prossima Esattamente No tra l'altro Parlando di Blade Runner Qual è la versione in onda? Blade Runner originale? O quella O uno dei 35 rimontaggi Che hanno fatto di quel film? Sì No Quello non lo so Non ti saprei dire Spero che ci sia la Final Cut La Final Cut Sì Se vi interessa Su Non mi ricordo più Se su Uro o su Netflix Sì No scusate 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 Su Crunchyroll Sì Hanno messo L'anime prequel Del nuovo Blade Runner Ah ok No tra l'altro Parlando di anime Tu che te ne intendi Più che altro Di anime Vuoi commentare la notizia Che JJ Abrams Farà la live version Di tal anime Chiamato Your Name Porca miseria Ecco appunto Perfetto No tra l'altro Parlando di anime di cartoni Non abbiamo detto Che il Season Desist Dei Bugs Deriva dal fatto Che gli è arrivato Un Season Desist Vero Dai produttori Di Rick e Morty Di Cartoon Network Perché loro hanno fatto Una maglietta parodia Con loro Al posto di Rick e Morty E i Diciamo I produttori Nick e Matti Come? Nick e Matti Nick e Matti Esattamente Puoi anche capirlo Perché ci sono andate A proprio cercare A sto giro No ma se guardi La maglietta È il logo Di Rick e Morty Uguale Identico Con loro Al posto di Rick e Morty Stessa posa Anche più che altro Sì sì ma ricordo Comunque Per quanto riguarda J.J. Abrams Con Your Name Sì Spero che sia una Guarda È difficile Perché quello È probabilmente Il miglior anime Che abbia mai visto Anzi Togli probabilmente È il miglior Il miglior prodotto D'animazione Che abbia mai visto Sì Ed è il miglior film Che abbia mai visto Quest'anno Your Name Ho capito Quindi tanta fortuna J.J. Abrams Eh vabbè Avrà il mondo contro Dai poteva andare peggio Poteva occuparsene Michael Bay Dai Alla fin fine O quello O quello di Jurassic World No Che è stato cacciato O magari O magari Uwe Boll Poteva anche Poteva anche Poteva anche Pensarci Dai Non potevi lasciarmi andare felice Dopo il passo di No No perché Condividi la miseria Di questa vita con noi Sentiamo Moreno Alla prossima Ciao ragazzi Ciao Ciao Vabbè Andiamo Noi andiamo al tempio invece Perché è il momento di parlare Di quello che è successo Nella prima parte Di ultima Lucia 3 Parliamo di Lucia Underground Nonché quart'ultima puntata Di Lucia Underground Esatto Non solo della stagione Ma in assoluto Probabilmente Date le ultime notizie Posso essere Cioè io non voglio Sai che non è stata Una brutta puntata Ma Sarà che l'ho vista Un anno dopo Ma a me Del match Tra Kishot E Dante Fox Non me ne fregava Un cazzo A livello di storyline Posso anche darti ragione Però devo dire Che comunque Questa cosa L'ha portata anche avanti Negli ultimi settimani Alla fine Considerato tutto La storyline Che va avanti Da due anni Sì Alla fine Però Cioè Veramente Anche quando Tipo facevano i riferimenti Ai loro vecchi match Quando tipo Ha fatto il coso Come Come Nel Weapon of Mass Destruction Con Con Marty DeMoff Cioè io non mi ricordavo nulla Ma anche proprio come Cioè È una storia In che dura Un anno Però A parte con la Queto Cap Che mi ha fatto praticamente Dimenticare tutte le storie Ma anche la pausa E tutto il resto Mi ha fatto sentire Molto meno Sta storyline Non so voi Ma Beh una delle storie Dicevo Gestite Meglio Che Che alla fine Comunque Ha avuto una Una certa continuità E Bene o male Un messo logico Che poi alla fine Ha culminato appunto Ieri Con L'altro ieri Con Con l'ultimo match Che tra l'altro È stato un match No è stato un bel match Però Non lo so Cioè Ripeto Magari perché Veramente Con Tutte le pause Tutta la distanza È un match Che ho sentito molto meno Di quello che Probabilmente avrei dovuto sentire Sì beh Quello probabilmente Vale per un po' tutti i match Perché comunque Sì Penso che un po' tutti Parlo un po' a nome di tutti Quelli che Hanno guardato Lucia Cioè non dico Non vedessero l'ora Che finisse la stagione Però hanno perso Abbiamo perso un po' Tutti l'interesse Per questo Sì Sicuramente Sicuramente Mai lo guardiamo per inerzia Almeno qua Detto questo Detto questo Io lo guardo perché Mancano tre puntate Detto questo Detto questo Il match Tra Keyshot E Dante Fox È stato forse Uno dei più violenti Dell'intera storia Di Lucia Underground Sì forse al pari Del garbage Tra Pentagon e Vampiro E Vampiro È anche È anche È anche È anche il È anche il primo Grave Consequenze Sì Aggiungerei anche Gran 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 match Cioè Alcune cose Alcune cose magari Anche se mi avessero dato Un milione di dollari Probabilmente non le avrei fatte Tipo il volo No neanch'io Il volo da Da 6-7 metri Sul Sul tavolo di Sulla lastra di vetro Che per carità Era anche Preparata Perché se lo vedi Si piegava Però comunque Comunque Diciamo visivamente Visivamente La schiera di Dante Fox Comunque È eloquente Sì certo Certo Certamente Però Però sai cosa Più che altro Dante Fox era finito Sul 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 filo spinato Senza Con la schiera nuda Tra l'altro Quindi Probabilmente Sul vetro Sul vetro Sul vetro Da fin fine Era anche preparato Però comunque Impressionante L'immagine Più che altro Sai che Dopo aver visto Questo match Io l'ho visto Poi andare in palestra Mentre ero in palestra Mentre faccio la cicletta Dove devo fare 10 minuti Di cicletta Per riscaldarmi Quindi è una gran rottura Di balle Perché non ho niente da fare Ripensavo a quella volta Che ci hanno fatto la domanda Ma come si prepara Un wrestler A finire sulle puntine O su ste cose Non si prepara E la mia risposta è stata Prende un gran respiro E si butta E si butta E se è credente Prega Probabilmente E tipo E in quel momento Mentre pensavo Mentre ero lì E pensavo a sta cosa E pensavo a quel match Perché veramente Hanno fatto delle cose Che C'è un Un corpo umano Non dovrebbe Ci hanno dato Particolarmente dentro Forse Il confine Praticamente Tra Violenza In termini un match E violenza gratuita Diventa Diventa comunque Sempre Molto labile Con situazioni di questo tipo Vai Fabio Dico Prosto che anche le puntine Sono Tre virgolette Sceniche Non sono proprio quelle Però Conficcatele Nella schiena 20 o 30 Vediamo Vediamo se non ti fai male Quello che voglio dire Basta vedere Se tu non sei preparato A prendere le puntine Borrash Ha avuto le mani Facciate Ma più che altro Il trucco delle puntine È lo stesso Più che altro Il trucco dei fakiri Cioè comunque Distribuire il tuo peso Su più puntine possibili Perché così almeno Diciamo Se tu vai su Uno o due puntine sole Parrossimente Rischi di farti meno male Che andando su Cinque o sei Più che altro Perché è distribuito Più che altro Il Tra virgolette Il dolore Che è quello che ha avuto Che è quello che Ha sopperto Borrash L'anniversario Gli ha prese tre Di strisce E gli hanno fatto malissimo Comunque a livello Di violenza Secondo me Questo match È A livello televisivo È tra i più bruttali Degli ultimi anni Senza dubbio A livello televisivo Assolutamente d'accordo Cioè è proprio Proprio Veramente Violento Sì Proprio cattivo Allora La cosa buona Che comunque A livello di storyline Questi qua Raccontato il fatto Che si odiavano Tanto Sì Premettendo più che altro Premettendo più che altro Che comunque Lucia Negra Rischia di finire del tutto Con la fine Della terza stagione Però paradossalmente Da questa situazione Poi anche più che altro Risolvere i problemi tra le due Alla fin fine Tra l'altro Oggi pensavo un'altra cosa Mentre stavo Non mi ricordo Sero in palestra Stavo andando al lavoro E mi avevo Tutte queste cose Ma La tribù Delle lucertole Che ha vinti titoli di copia Che erano presentati Sono spariti anche loro Vabbè Non hanno nessun match Ultima lucia Previsto Previsto No C'è la battle royal Però Nella battle royal Probabile Non ricordo Non so se tutti e tre O solo uno O due Dovrei riprendere Diciamo la puntata Per vedere La grafica Più che altro Sapete che c'è Nella battle royal Che mi ha reso felicissimo Ah si perché Chi Sapete chi c'è Chi Vinny C'è Vinny Massaro Grande Vinny Sì che non si vedeva Da una vita Vabbè L'ho chiamato solo Per fare l'ultima luce Povero uomo Intanto segnalerei Non si vedeva da una vita Non si vedeva da quando L'ha ucciso Mil Muertes Praticamente Segnalerei intanto Segnalerei intanto Che tu scusa Il tournil di Kairi Sane Su Twitter Che gli è stato chiesto Qual è il tuo Il tuo Praticamente Resident Evil Barra Biohazard Game E ha risposto Il mio preferito è il 6 Nel commento Che tournil È il più brutto Praticamente No il 5 Il 5 è peggio Se la giocano Se la giocano Se la giocano Vabbè andiamo avanti Digelamo Come si chiama E appunto Andiamo avanti Andiamo No vabbè Quindi Vabbè Si è risolta Più che altro Si è risolta più che altro Vogliamo parlare Del primo match Della puntata Si il match Tra Diciamo tra Aiuto Bello dai È bello Normale Si È tornato Dottor Wagner Junior Con la maschera Con la maschera Incredibile Con la maschera Quindi l'ha rivinta Non ne ho idea Ma non Non ne ho idea Ma non credo Sai Non ne ho idea Ma non credo Più che altro O non essendo in Messico Non vale Per l'altro in Messico È tornato Con il suo vecchio nome Di Dottor Wagner Che ha molto più senso Nonostante Nella persona maschera Avesse cambiato nome Per due settimane Non lo chiamano Junior No C'ha 86 anni L'hai visto Quando è stato smascherato Va detto che Per essere abbastanza avanti Con gli anni Se li porta abbastanza bene Però li dimostra tutti Guardandolo Guardandolo in foto Si 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 Stavo guardando Solo guardandogli il fisico Si vede che comunque È una persona anziana Si È un fisico tiratissimo Comunque da anziano Volevo mettere Volevo guardare un attimo Più che altro Ecco Questo è l'ingresso Di Seth Rollins In WWE 2K Vediamo se hanno già Corretto la canzone No No Purtroppo no Non c'è Non c'è Non c'è Il meraviglioso Bellino Esatto Non c'è Non hanno fatto In tempo Non hanno fatto In tempo Inserirlo Sfortunatamente Che peccato Adesso È una cazzata Però di WWE 2K Mi piace molto Che quando ci sono I pay per view C'è il logo Della WWE in basso a destra E in alto c'è il live Scritto Dello stile Del WWE Network Che vabbè È una cazzata Però aggiunge Secondo me il realismo Tra l'altro Se avete visto Le entrate di SmackDown Adesso anche Quando c'è SmackDown Praticamente Ci sono Le statistiche Più che alto C'è statistiche Arrivano i dati da destra Con la foto Come viene praticamente In SmackDown Live Alla fin fine Stanno cominciando A uscire il video Tra l'altro Di WWE 2K Perché Bellissimo Quello di Triple H Che fa l'entrata Di Noé Osè Quello è bellissimo Ok va benissimo Ok Torrando noi Torrando noi Più che altro Però io gli avrei lasciato La team del game Ma con i balli Del Con i balli Di Noé Osè Sì Cos'è che avevano fatto Chi è che l'hanno scusato Avevano fatto Con l'entrata di Goldberg Che era meraviglioso O Goldberg stesso Avevano fatto Non mi ricordo Aspetta eh Vediamo se c'è Vediamo se c'è Un'entrata di Goldberg Più che altro Sì c'era 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 Più che altro C'era Samoa Joe Che entrava Conciato come The Rock Praticamente Con tanto Con tanto di costume La The Rock Quindi tu pesa Samoa Joe Con costumino La The Rock Poi c'è Kevin Owens Che entra conciato Come 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 Calisto Praticamente AJ Styles Che fa l'entrata di Big E Poi c'era Goldberg Dov'è Goldberg No Steve Austin Che entra come Dolph Ziggler C'è C'è un video Dove fanno vedere Roman Reigns Che entra come Tyler Breeze Che deve essere Una bella visuale Tra l'altro Poi abbiamo Luke Harper Che entra come Fandago C'è un video Dove fanno vedere Tutte queste Entrata particolari Poi c'è Bray Wyatt Che entra come Enzo Amore Poi c'è Vediamo un po' Big Show Che entra conciato Come John Cena The Big Cena Probabilmente Questo che cacchio è Rusev Sì Rusev Che entra come Xavier Woods Con tanto di trombone E Dulcis in fundo Brock Lesnar e Goldberg Che entrano come Le Funkadactyls Che è una bella visuale Sì Col bikini Ma Che schifo Di immagini Adesso Probabilmente non riuscirò più A dormire la notte Dopo aver visto Queste Queste immagini Vabbè Tornando a noi Più che altro Davide 2K Esce il 13 ottobre Poi magari Settimana prossima Dopo averci giocato Alla Games Week Magari parleremo Ancora un pochettino Del gioco Delle impressioni Che Graficamente Nel filmato Sembra molto buono Tu perché sei l'unico Che lo compra subito Mi sa No io parlo di Games Week Ah ok Dovrei provarlo Domani Io non lo so Adesso dipende Da quello che sarà Perché sicuramente Lo dovrò scaricare In digitale Perché i giochi Poi mi li porto Sulla nuova controllo Sì 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 Io Io lo prendo Io lo prendo dopo Luca Quindi Ci vorrà ancora un pochettino Effettivamente Tornando a noi No Settimana prossima C'è Come si chiama Martina Moff Contro Phoenix Sì Main Event E poi La Battle Royale E cosa hanno annunciato Di altro Non mi ricordo Solo quei due match lì No Non è che hanno annunciato Proprio i match Settimana prossima Hanno detto Cosa ci sarà A ultima luce E poi hanno detto Che settimana prossima Ci sarà quel match Quei due match lì Anche la Battle Royale Ci saranno quei due match Esattamente Vediamo se poi ci sarà Anche qualcos'altro Ricordiamo Abbiamo ancora tre puntate Sono quattro ore Praticamente C'è quattro puntate Ho fatto mini puntate Di Di luce Nel ground Compongono ultima La luce Vediamo Vediamo cos'è Cioè poi soprattutto Vedremo di avere Di avere più che altro Notizie sul futuro Della compagnia Anche se la situazione Sembra Sfortunatamente Grigia Per quanto riguarda Per quanto riguarda Il programma Di Il programma Di Array A rigore di logica Nella prossima puntata Di Impact Visto che Tejano Adesso è a Impact Sì E' entrare con Famous B E' vero Certo E' Beautiful Breda E' Beautiful Breda Naturalmente Certo For to free Get fame Ricordiamolo Get fame Ricordiamolo Va bene Va bene Va bene Cos'altro da aggiungere NXT NXT Buon episodio Buon episodio Poi abbiamo visto Il futuro Dello wrestling In In azione Sì Il più grande Fisico Nello wrestling Perché tutti gli altri Fanno schifo Soprattutto quei tre Alla fine Fanno schifo al cazzo Sono tutti piccolini No Sì Ma forse Mattia guarda Forse forse Faranno qualcosa A tuo 5 Live Ma magari Ma neanche a tuo 5 Live Non hanno Non hanno Non hanno quella cosa Chiamata Aspetta Aspetta La La ruthless Aggression Sì Sì Non ce l'hanno Va bene Precisiamo perché Ci sta ascoltando Questi due deficienti Stanno ovviamente scherzando Non pensano minimamente Quello che hanno detto Qualcuno però lo pensa Qualcuno lo pensa Non diciamo chi Ma qualcuno lo pensa Perché qualcuno Che non può essere nominato Sì Fate voi Ho capito E vi dico una cosa Vi dico una cosa Per non sviare Perché non è il paladino Non stiamo parlando del paladino Incheidibilmente Perché queste stronzate Può pensarle solo Potrebbe pensare anche il paladino Io non so neanche Di cosa cazzo state parlando Forse neanche chi siano Esatto Perché non guardo la serie B Neanche all'interno Adatto da lui Che schifo Che schifo Comunque Dicevamo Dicevamo Solo il main roster Vale la pena essere guardato Tutto il resto è serie B Saltimbanghi inutili Magari main event Ma anche lì Siamo un po' più larghi Comunque Dicevamo Proprio proprio Dicevamo Per quanto riguarda Per quanto riguarda NXT No Io vorrei Aprire un attimo Una parentesi All'interno di NXT Più che altro Perché Ho la sensazione Che a NXT Abbiano Diciamo Qualche piano Per Fabian Eichner Perché ha avuto un match Fabian Eichner Molto bello La cosa importante Ha avuto una marea Di offensiva Contro Cassius Solo Quindi Probabilmente Probabilmente Hanno qualche piano Per lui Comunque lui È comunque Cioè A parte che Come abbiamo detto Più di una volta È incredibile Che non l'abbiano firmato Prima Lui Lui è grosso Però è dannatamente agile Effettivamente Per essere Per essere grosso Cioè Comunque È abbastanza Uno svolazione Tutto sommato Per quello che abbiamo visto Almeno in WWE Comunque Comunque È molto agile Ma veramente tanto Nel torneo Nel torneo Dei Cruiser Dell'anno scorso Fece Mi aveva fatto Un'ottima impressione L'anno scorso Mi sono rimasto stupito Che non l'abbiano firmato Immediatamente Invece L'hanno firmato Anche perché Al fisico adatto A quello che piace a loro Esatto Cioè Comunque Grande, grosso È agile Cioè Sì Ha messo su peso Evidente Rispetto All'anno scorso Al torneo Certo Certo Perché lui comunque Lui L'aveva perso L'aveva perso Tanto Più che altro Per partecipare Più che altro Al corso Lui è più grosso Stiego io il motivo Per cui Si è messo su peso Ha visto Lars Sullivan Ha detto Eh no Ha visto Lars Ha visto Ha visto Ha visto Scusa un attimo Mattia Mattia Cos'hai contro Lars Sullivan Cioè Perché hai questa Crociata Da qualche giorno Contro Lars Sullivan Ma perché qualcuno L'ha menzionato Esatto Perché qualcuno L'ha menzionato Come Come Persona Che ha un futuro In questa compagnia A differenza Di questi Quattro Quei tre Stronzi Mingherlini Che possono Far bene Solo A tuo Five Lines Ah ok Ho capito Va bene Non hai sentito L'audio Ma sei scemo Ma secondo te Sentilo Ma non lo sento L'audio Sentilo Neanche una bestemmia In chiesa Ma sei impazzito Ma assolutamente Senti quell'audio Ma assolutamente No Scusami Già faccio Fatica Già faccio fatica A sopportare Il commento In lingua inglese Della WWE Figurati Quello In altre lingue Stato Parlando di commento Congratulazione A Michael Cole Notato Michael Cole Ma il figlio Di Michael Cole Che lunedì Si sposa E quindi Michael Cole Non sarà A Raw Praticamente Lunedì Perché Ranallo Sarà ben Sostituito Ranallo Dopo quello che è successo Non ha una minima intenzione Di lavorare nel main roster Non ha caso NXT E non nel main roster No Tom Phillips Praticamente farà Sia Farà sia Raw Che Smack Ma per quanto riguarda I commentatori Se ne sbattano Abbastanza Il belino Giustamente Vabbè L'unico Cambiamento Rispetto a Smack Perché c'è Booker T Al posto di Saxton Scusa Scusa Eric Ma non potevano Mettere Vic Joseph Guarda che Vic Joseph È bravo Come commentatore Non è male Io scherzo Però Insomma Secondo me Se la cava Poi con McGuinness Sto facendo Un bel lavoro McGuinness Non c'era Martedì A tuo Five L'altro Due settimane Faccio Per motivi Spiegabili Sì Per motivi Spiegabili Si è fermato Purtroppo Byron Sexton A commentare La puttana Comunque Una cosa Infatti Io per quello Ho rimosso il commento Nella mia mente Pensavo Ancora McGuinness No No Una cosa Devo dire Sì Che Pretendo A NXT Steve Corino Al commento Sì Anzi Pretendo A NXT Almeno Per i match Di Cole L'announcer Personale Ovvero Steve Corino Sì Perché Durante i match Di Cole Se non c'è Steve Corino Che urla Cole La cazzo Non è la stessa Qual è la finisher Di Adam Cole Adesso In WWE Super Eh appunto Shiny Wizard Shiny Wizard Sì Però usa Usa anche Molto Super Kick Con i figure Se non metti Corino Con i Super Kick Beh ma Lo usavo anche In Sì Lo usavo anche In No Naturalmente Naturalmente Corino L'hanno menzionato Tra l'altro A NXT Non ricordo Sì Lavora Praticamente Lì L'hanno menzionato Sì In puntata Nell'ultima puntata In occasione Mi sembra Nel match Nel match Di coppia Con degli Heavy Machinery Perché uno Dei due Jobber Che hanno scorciato L'ha allenato Steve Corino Ah E quindi Ranallo No Nigel Ha menzionato Corino Il re Il re Ma scusate Ne volete togliere La gioia di sentire Percy Watson Eh ma tanto Non succederà mai Per un semplice motivo Perché purtroppo Corino non è nero Vedate Un nero ci vuole Altaro No Un nero deve esserci Altrimenti Altrimenti Veniamo denunciati Altrimenti Sono indietro Quei tempi Comunque Effettivamente McGuinness Non era Né al pay per view Dove hanno commentato Vic Joseph E come si chiama E Corey Graves In Match Cruiser Né anche A tuo Five Live Quindi bu La situazione è un po' Un po' strana Speriamo Speriamo Che non sei niente di sera Di rivederno Molto presto Già da questa settimana Magari Tornando Tornando a noi Più che Tornando a NXT Match femminile Abbastanza dimenticabile Oggettivamente Con Liv Morgan Saltato a pie pari Liv Morgan La cui unica Che è l'unica cosa positiva Che ha fatto gli ultimi tempi È mollare Enzo More Sì Liv Sta Diciamo che Sta flirtando Abbastanza palesemente Su Twitter Con Con Tyler Bate Esatto Sì Però Non pare che non stiano più Non stia più assieme Con Enzo More Non ha parlato Neanche benissimo Effettivamente Leggendo tra le righe Più che altro I suoi tweet Alla fin Ma giustamente Cioè Cioè per Un È una bella ragazza Come l'ottatrice Fa schifo Però È una bella ragazza Oggettivamente Come fa schifo Guardate che è il futuro Di questo Come l'ottatrice Fa schifo al cazzo Proprio con gentilezza Io due anni fa Quando ti buttò Quando fece le sue prime apparizioni Pensavo che aveva Del potenziale Però onestamente Sono passi due anni Non hai migliorato È esattamente come due anni fa Quindi non direi che Purtroppo siamo messi male Da quel punto di vista È lì dove sta Dove migliora dovunque Specialmente A livello femminile Sì esatto Esattamente A parte A parte se vogliamo Come si chiama A parte Aiuto Non mi No va bene Ha migliorato anche lei Effettivamente Naya Jax No no Naya Jax Oddio Dario Bernato Adesso mi ricordo come si chiama Sonny Deville Sonny Deville Che purtroppo ha un guaio Sonny Deville L'abbiamo già detto Nelle settimane passate Che è prigioniera Della sua game No No Che purtroppo È arrivata una Che la game Mi lascia fare molto meglio di lei Che è Shaina Bessler Più che altro Sfortunatamente per lei A suo favore C'è l'età Sì Quello sicuramente Quello sicuramente Che è molto più giovane E ma non tanto più giovane Andiamo a vedere un attimo Quanti anni ha L'abbè Renato No 24 anni Pensavo fosse un pochettino più vecchio No è giovane È molto giovane Poi Il tech team preferito Di Fabio Ovvero Gli Happy Machinery Otis Dozovic E Tucker Knight Hanno battuto Demetrius Allora Tucker Knight Può implodere Chi se ne frega Ma poverazzo Ma 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 Otis Dozovic È uno spettacolo Tucker Knight Ma vai a Ma hai visto Scusa Scusa Tucker Knight Tucker Knight Fabio Otis Dozovic Sì Cioè È l'uomo Se non ci fosse Rusev Ti direi che è l'uomo più bello del mondo Ti direi Comunque Dozovic Ha fatto un elbow drop Veramente bello comunque Per essere Per la stazza che ha Bellissimo Per la stazza che ha Guarda che non è brutto È l'elbo drop Che ha fatto Tutto solo Ma io non sto scherzando Io Dozovic è fantastico Ha un carisma della madonna Sì Mattia Io Valento che i due hanno La finita più stupida Negli ultimi 15 anni Probabilmente Però Mattia è un sogno Dozovic e Rusufi insieme Sì Sarebbe bellissimo Tag team Rusev E Otis Minchia Come Come li possiamo chiamare Perché Forse Tra l'altro Forse Dozovic Eppure lui Eppure lui Dell'est Forse Come Russo Sono Ce l'ho io The real Beautiful people Oddio Senti Intanto C'è un commento Da parte del garante Che dice Che Lars Sullivan Ha due pettorali Fantastici Ok vabbè Vabbè Se lui ha due pettorali Fantastici Big E Cos'ha di grazia Sì Attendiamo Ai secondo te Per cosa sta Ok vabbè Lasciamo perdere Andiamo avanti E come Come Diciamo La La dose Diciamo La taglia Più che altro Tu dici Del seno O altra cosa E come General reaction Più che altro Sì sì Ah ok Big E non è qualificabile Bellissimo Dice No una cosa Una cosa che Nexty Torrano seri per un attimo Una cosa che Nexty fa benissimo E L'uso Del Del performance Center Per Diciamo Continuare Di angle Dalla fin fine Cioè tipo Regal fa un'intervista Passa di lì per caso Johnny Gargano Sanciscono un match Per la settimana Dopo Vogliono Approfondire la storyline Di Alistair Black Lo fanno vedere Mentre si allena Nel buio Tra l'altro Per motivi inspiegabili Al performance Center Perché il sole Lo scioglierebbe Posso dire che Il fatto di avergli Concesso la parola A Alistair Black Gli ha un po' tolto Quella sua peculiarità Che aveva Sì lui Diciamo Il parlato Non è mai stato Effettivamente Il suo forte Cioè secondo me Se lo lasciavano Come personaggio Irrequieto Secondo me Non lo so Era quella la sua peculiarità Doveva essere Un punto di forza Doveva essere Cosiddettamente SML Silenzioso ma letale Esattamente Come un'altra cosa Sì vabbè Lasciamo perdere Che è meglio E niente Poi nel main event Eric Young È stato sconfitto Da Adam Cole Quindi continua Questa fight Bel match ovviamente Per Cole Buono Young ha avuto Un sacco di offensiva Rispetto a Cole Ma ci sta Era comunque lui Cioè ci stava In questo caso E niente Cole ha bisogno Del suo migliore amico Che gli chiami match Sì E niente Settimana prossima Settimana prossima Match titolato Roderick Strong Contro Drew McIntyre Credo Sì Credo Basta annunciato Per settimana prossima Ho sbaglio Non so se hanno annunciato Qualcos'altro Non mi ricordo La terza puntata Dei taping nuovi Quindi ce ne sono La seconda Non era la prima Questa Dei nuovi taping Sì è la prima Dei nuovi taping Quindi ce ne sono Ancora due O tre Non ricordo Quanti sono i prossimi Sono tre o quattro Sono quattro o cinque Puntate di NXT A taping Tre o quattro Dipende Dipende E allora dovrebbe essere Ce ne sono ancora tre Allora i prossimi Taping Sono Te lo dico subito I prossimi taping Di NXT Che di solito Sono tipo una settimana Prima della messa in onda Sono 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 Vediamo un po' Tapings Il quattro ottobre Quindi questa settimana Questa settimana Ci sono i prossimi Taping di NXT Mercoledì quattro ottobre A full sale Cominceranno a andare in onda Dal diciotto Probabilmente Fai conto Poi manderanno in onda Due puntate E poi andremo No E poi andremo Con la sessione Che è l'ultima Probabilmente Prima di Survivor Series Survivor Series E te lo dico subito Non ricordo la data Il 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 Cacchio è Survivor Series 19 novembre Quindi I taping Andranno in onda Dal 18 Praticamente Di ottobre Praticamente E Abbiamo Una Una Due Tre Quattro Cinque puntate Cinque puntate No Sì perché l'ultimo Perché No Quando è il Survivor Series Ho detto adesso Survivor Series È il 19 Quindi l'ultimo È il 15 novembre Praticamente Di Il Go Home Praticamente Prima di Di Survivor Series Uno Due Tre E Quattro Poi abbiamo No No allora Sono quattro puntate Questa sessione Teoricamente Sarà Una Si finisce Andranno in onda Praticamente 25 Le puntate nuove Di NXT Non mi ricordo Quante puntate Ha registrato Nell'ultima Nell'ultima sessione Praticamente Di Settembre Fammi controllare Fammi controllare Un secondo Hanno fatto Hanno fatto Quante puntate Vediamo un po' Quante puntate Hanno fatto No beh C'è ancora un po' Sì probabilmente Hanno quattro puntate Quindi sì Dovrebbero essere quattro puntate Anche alla prossima sessione E con quello Arriveremo poi A Poi praticamente A Surreal Series Che è l'ultimo L'ultimo takeover Praticamente Dell'anno E poi La prossima sessione Sarà il 29 novembre Ed è l'ultima sessione Dell'anno Perché poi si Ripartirà Nel 2018 Bisogna vedere anche Lì quante puntate Registrare Cambiando argomento Parliamo di Parliamo d'altro Più che altro Cosa è successo Anche in questa In questa settimana Diciamo di cose Particolarmente Particolarmente Importanti Fabio non è stato presente Con noi nei post show Quindi se vuole Se vuole commentare Nomersi Faccia pure Eh Cosa ti devo dire Chiamalo con il suo Nomeric Romersi Sì Un puntatona Di rock Come ormai Ogni pay per view Monoprenda Sì Praticamente Una puntata in più Dello show settimanale Sì E niente Cioè Non uscirà nulla Da ricordare Doveva uscire Qualcosa da ricordare Quei 2020 Ci avevamo detto Esce da ricordare C'è roba che Andrò a riguardare Credo che Non è roba Sì C'è la cosa Che Una delle cose Che si ricordano Di più Praticamente Diciamo Del pay per view Fortunatamente Il povero Cesaro Che ha avuto Due dei Beh giustamente Anche lui Va a sbattere Con i denti Contro un paletto Sei destinato A avere cose brutte Più che altro Nell'unico match Forse un po' più Oltre il livello Diciamo Ma per il resto No Quello è un bellissimo match Quello è un bel match Oltre il livello Bellissimo Bel match Molto bello Sina Sina Reigns Ben lottato Però Non l'ho sentito Cioè Non ho sentito questo match Cioè Bello Bel match Dal punto di vista L'ho lottato Però Dal punto di vista Della solennità Cioè comunque Anche loro hanno lottato Un 20% Secondo me Non è solo Secondo me Non hanno Non hanno trovato La quadratura Del cerchio Può essere Può essere Non c'era Tanta affinità Intanto Segnalo Da ebay Che c'è Praticamente Una C'è uno studente Che praticamente Sta vendendo Questa Stai vendendo Quest'action figure Per Per aiutarsi Praticamente A Diciamo A trovare Per aiutarsi Come posso dire Negli studi Più che altro C'è solo un problema È un action figure Di Stone Cold Steve Austin Che pare Non si appimentano Molto tempo WWE Legends Unico problema La sta vendendo A 49 dollari Scusami 49 mila dollari Non 49 dollari 49 mila dollari Complimenti La trovate su ebay Difficile che ci sia qualcuno Che voglia comprarla Più che altro Vabbè Presumo dovrà abbassare Più che altro Le pretese Alla fin fine Tornando Tornando a noi Per quanto riguarda Per quanto riguarda No Mercy Cos'altro da segnalare Di importante Più che altro Che non abbiamo detto Negli show Alla fin fine Direi Direi non molto No Altre cose Della settimana Ecco Una notizia Più che altro Relativamente A WWE Una notizia Che vi renderà Sicuramente Molto molto tristi I miei compagni Di avventura Più che altro In questo podcast È stato Momentanamente Annullato L'upload Di Funder Sul WWE Network No Perché praticamente Buff Bagwell E Raven Stanno facendo causa Per le royalties Alla compagnia Allora per evitare Problemi Hanno momentanamente Arrestato L'upload Di questi Di questi show Più che altro Al suo posto Praticamente Hanno Anticipato Molto semplicemente L'upload Delle puntate Della WCCW Della World Class Championship Wrestling Ma chi se ne frega Ma chi se ne frega Ma no È ottimo È ottimo Ma Leo Leo Vuoi mettere Sta roba qua Ma fa cagare Funder WCCW WCCW È nettamente meglio Ci sono i freeburs Conti Von Eric Porca miseria Ma sì Ma che cazzo è Fabio di qualcosa Non c'è Asia Che rompe il ring Perché va Perché va Praticamente Nel buco Dove non deve andare C'è la meravigliosa Storyline dei tag team Ok va bene Quella con Ora Sogan Ora Sogan A me c'è anche Disciple Sì Cioè io La WCCW Grande rispetto Con Big Show E The Disciple Che perdono il match Perché Sting Arriva e gli tira La pacca sul culo E lo distrae Vogliamo Funder Funder contiene anche Funder contiene anche Questa gemma Che possiamo ascoltare Non sa neanche dire Neanche dire Stinto Riascoltiamo No no Allora No Riascoltiamo Riascoltiamo Questa parte Scusa Vabbè Grazie Marcio No no Allora aspetta Aspetta C'è anche un'altra roba Che è epica Sì Veramente epica Ricordiamo comunque Nel frattempo Che Nitro e Thunder Noi Thunder l'aspettiamo Perché poi Inizieremo il commento Di Nitro e Thunder Ve lo fate voi Dall'arrivo di russo Ecco qua Ve lo fate voi Dicevo Eric Ti sei dimenticato Uno dei momenti più belli Della storia di Thunder Sì Quale? Quando Quello con Gerico Con la porta aperta Sì esatto Che fa finta di Quello è bellissimo Come on baby Che bellissimo Quando Gerico Entrava Facendo l'entrata Di Goldberg Quello è bellissimo Quello è un momento Bellissimo Di Thunder Non puoi dire di no Vabbè no Stavo guardando Anche il momento In cui praticamente Devono fare la Diciamola Devono gettare Praticamente Il bagno di sangue A Kevin Nash Ma lo mancano Che bello Con Nash che si mette A ridere Sì esatto Era quello Che si metteva a ridere Era quando parlavano Di Scott Hall E non potevano Parlare di Scott Hall Era quello C'era anche quello C'è il promo Il promo Di DDP E Kevin Nash Su Scott Hall Con Scott Hall Con le misse di Scott Hall Bippate Perché non potevano dirlo Vabbè No Thunder Mamma mia Vabbè Thunder si trova Si troverà poi sul network Prima o poi Più che altro Vi promettiamo Giustizia per Thunder Ma sei impazzito Vabbè Altre cose da aggiungere Stavo guardando Se c'era qualche notizia Curiosa Che abbiamo saltato Ma non credo Cose Un po' Un po' particolari Notizie importanti Più che altro Della Della settimana Direi di no Non penso di no Cose clamorose Possiamo parlare Se vuoi Dell'ennesimo promo Identico di Maala Anche questa settimana Almeno questa volta È arrivata Nakamura Esatto Sì Sai che mi aspettavo Che qualcuno Qualcuno Quando è apparso Nakamura Come si chiama Sul Sul mega schermo No È un peccato Che non c'è più JBL Perché Chi diceva Ma no è una foto Sono sicuro che è una foto Non è Nakamura È una foto Di Nakamura Esatto Vabbè No Altra cosa clamorosa Non ce ne sono Quindi direi Che possiamo Tranquillamente Andare A vedere Le domande Che sono arrivate Questa settimana Sulle nostre pagine Alla QEA Esattamente Domanda storica A memoria Qual è stato il cambio Di gimmick peggiore Per Undertaker Rintendo in particolare Reazioni fredde del pubblico Con conseguente cambio di rotta Nessuno Ma nessuno direi Perché comunque Anche l'American Band Anche il Band Era over Più che altro Il Band Era over Infatti Il biker Era arrivato Al momento giusto Sì esatto Assolutamente Quando ormai La sua Parte oscura La gimmick storica Aveva fatto il suo tempo Allora Se vogliamo Considerando un cambio Di gimmick Che non lo è Per ovvi motivi Il breve periodo In cui Undertaker Praticamente Si è alleato Con Teddy Biassi Però era il finto Undertaker Non era Diciamo l'Undertaker Quello reale Più che altro Tre domande Secondo voi Michael Hagen e Braun Strowman Sono in questo momento I due migliori big man In circolazione Tra i migliori Ma non i migliori Migliori big man In circolazione Se vogliamo Cioè Poi dipende Il concetto Di miglior big man In circolazione Per stazza Rimane Lesnar Sì esatto Anche se i match Non sono più Io voglio bene A Braun Strowman Voglio bene A Braun Strowman E tutto il resto Da qui a considerare Il miglior big man Del mondo Possiamo stare A parlare Ha un enorme carisma Ma più che altro Chi sono i big man La cosa che salva Non è il carisma Però Sul ring Sul ring è onesto Più che altro Bisogna capire E' onesto Essere buoni Anzi Mettiamola così No bisogna capire Che big man Ci sono in questo momento Per fare Cioè Che cosa si intende Per big man Cioè se Se Elgin è un big man E Elgin comunque Rispetto Rispetto a quelli Gli avversari Con cui combatte E' più grosso E' più pesante Sì sì Sicuramente E' uno dei migliori Il Garante Il Garante Con una frase censurabile Dice Il miglior big man È Roman Reigns Ringraziamo Garante Per i suoi pareri No lui non è un uomo E' un cane Esatto Big dog Non big man Esatto E' un big dog Non è etichettabile Come uomo Roman Reigns Mi dispiace Cioè per dire Per dire big shock Non voleva essere Non voleva essere Offensiva Nel senso E' un cane Nel senso Che fa schifo a lottare E' un cane Nel senso Che lui non è un uomo E' la sua gimmick Esatto E' un po' come Cage Cage non è un uomo E' una macchina Possiamo dire Che è un big man Perché è una macchina Sai che suo figlio Uscirà enorme Secondo me Perché Anche Melissa Santo Si è messa molto bene Da quel punto di vista Tra l'altro Fabio non c'era Stima la scorsa Volevo un suo commento Diciamo Tra l'altro Ancora complimenti a Cage Per aver infornato La pagnotta No complimenti A chi ha girato Il filmato Nel allenamento Di Melissa Santo Ah minchia Tanto di cappello Aggiungerei Non so Allora Leo Visto che io e te Ci capiamo Dica Cos'è 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 stato Cos'era meglio A chi bisogna fare I complimenti A quello che ha girato Quel coso lì Con Con Melissa O a quello che ha vestito Alexa Bliss Nel VRO Melissa Santos A mani bassa Secondo me Per quanto Anche quella di Anche quella di Alexa Bliss Fosse un ottimo Però devo dire Sai cosa mi ha più Diciamo Impressionato Di quel segmento Non tanto Non tanto Diciamo Alexa Bliss Ah micchi Cioè micchi Si tiene Da dio Micchi si tiene Da dio Si Poi La CMNL È migliore Sì ma Alex Aveva due cose Molto Che risaltavano Tantissimo In quel promo Vabbè lasciamo perdere Il garante Mi ha confidato Che quando è entrato A micchi James Ha avuto una tempesta Ormonale Vabbè lasciamo perdere Per cortesia Andiamo avanti Dicevo Altra domanda Che ci è arrivata La CMNL è migliore Della AAA Se si perché Leo che la segue Forse di più Può rispondere Sì cioè Io nel senso Io non seguo Tantissimo la AAA Quindi non è che posso Esprimere giudizi Sì Diciamo Completi Però Quello che Quel poco che guardo Di CMNL È molto Cioè È spesso divertente Gli show Di solito Li trovate Su Youtube Il sabato Sì E Diciamo che È uno Cioè vi deve piacere La luce a libero Esatto È comunque uno stile Di lotta Che può Può non piacere A tutti Perché è molto Basato sulle acrobazie E sugli ice Poi c'è poco C'è C'è poco selling Più Mossa 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 È diversissimo Ci sono spot fest Esatto Poi comunque ci sono altre piccole C'è anche delle piccole regole Che magari sono Diverse Rispetto Al Al wrestling A cui siete A cui siamo abituati Solitamente Leo non distrarti dalla foto Che mi ha dato il garante No no Sto cercando La vai Lorenzo Per non guardare Minchia Eh ok 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 Sì Ne ho viste di meglio eh Sì sì E questo vuol dire Dopo te le mando Te le mando dopo su Whatsapp Vabbè Andiamo avanti Conoscete scuole diverse In Inghilterra Io personalmente no La Beh Quella della Progress Il Progio Però non so se puoi andarci Da totale Amatore Esatto No C'è anche quella Della IPW UK Che effettivamente Forse magari può essere Un pochettino Un pochettino più aperta Più caldo a livello Perché apprendono anche Apprendono anche solo Se vuoi Diciamo se vuoi solo guardare Praticamente C'è 15 sterline C'è anche la Beh Per farti un'idea Se puoi farlo Vai C'è anche la Uav Che è la La federazione dei Knight Ovvero i genitori di Page Sì esatto Che comunque Comunque parlando Parlando di Progress Tutte Per l'evento dell'anno prossimo Del prossimo Di settembre dell'anno prossimo Che è l'evento più grande Della Progress Alla Alla Webley Aggiungo Aggiungo una cosa importante Il wrestling in Inghilterra È caldo Molto caldo Anzi In questo periodo Pur Non avendo tv Perché comunque Nessuna di queste compagnie Ha un accordo televisivo Importante in Inghilterra Anzi Nessuna Non ne parliamo neanche partito Non è neanche partito Però se vogliamo Diciamo NXT Ha insegnato qualcosa Da quel punto di vista Sì Vero Vero Nel senso che comunque NXT non è mai Cioè in America Non va in onda in televisione E comunque tramite Tramite il servizio streaming È riuscita comunque a spopolare Sì però comunque Viene comunque promosso Nello show televisivo È comunque un altro discorso Però è un successo Cioè se vedi comunque Che riescono a vendere 12.000 biglietti Sì esatto Per un takeover Tipo a Brooklyn È sbalorditivo Per uno show Che non va in televisione Esatto esatto Date una risposta in percentuale Quante possibilità ha Brian Tra condizioni Il rapporto con i medici Di WWE Di tornare a adottare Dipende dove Più che altro Al di fuori Della WWE Le possibilità Sono alte Perché comunque Lui vuole farlo Vuole quantomeno provarci In WWE Vediamo WWE Se l'anno scorso Eri allo 0% Adesso sei al 10% Forse All'iosca Dice per lui 20% Magari anche meno Per quanto riguarda la WWE Al di fuori Della WWE Sicuramente Sono molto più alte Senza dubbio Sì al di fuori Della WWE È già strano Che non l'abbiamo già chiamata Adesso non so Quanto stesse scherzando Però Nel uno degli ultimi video Che ha fatto con la moglie Brian ha detto Che si sta facendo Crescere i capelli Per andare a fare Degli Air vs Air match In Messico C'è da dire una cosa Quello con cui voleva farlo Gli ha già perso Esatto Ha già perso i capelli Esatto C'è da dire una cosa Che Prendiamo sempre Beneficio del dubbio Perché quei video Perché quei video Lì comunque Sono controllati Certo Naturalmente Quindi comunque Beh controllati Però comunque In un video precedente Hanno detto Che Un video Praticamente Dove Lei si allena Col marito Non l'hanno potuto Mettere online Perché la WWE Gli l'ha Praticamente impedito Visto che Brian prendeva I bump In questo In questo video E appunto Dico per questo È controllato Però non so Quanto faccia piacere La WWE Che sta cosa esca Più che altro Che la menzionino Comunque Apertamente Comunque non i capelli La maschera Ha perso Blue Panther Sì esatto Come si può interpretare Il tweet di Di Mattarvi Forse la Broken Gaming Sta arrivando Vabbè E mesi Che fa stessi tweet A Mattarvi La Broken Gaming Non torna Cioè Mattarvi È un trollone No Non è detto che non torni Magari effettivamente Vincono la causa Con la GF Possono usare Con la GF Con Impact Con Anthem Se lunedì Roma dovesse vincere Il titolo intercontinentale La TLC Sarà possibile Vedere un 3 contro 3 Tra Shield e Mr Rush Con tutti i titoli in paglio Spero di no Perché quei match Li hanno sempre fatti Li hanno sempre detestati Cioè con tutti i titoli in paglio E di preditito Di chi viene schienato Eventualmente No Facile Facile che ci sia un TLC No Più che altro Più che altro Sai cosa Lunedì secondo me Il titolo non cambia di mano Perché finisce per squalifica E arrivano Ambrose E Roll Forse non arrivano Però Boh Vediamo Io spero Come ho detto l'altra volta Come ho detto già In puntata Che non facciano Questo match O Se lo fanno Cioè che non ci mettano Il misturage Dentro Che ci mettano Magari un team misto Magari il misturage Però Però L'angle L'hanno fatto Cioè già dall'inizio Hanno comunque suggerito Che comunque La Files Shield E' Eh sì Però Come dicevo Come dicevo L'altra volta Sì a te del misturage Non te ne frega un cazzo Giustamente A parte del misturage Non te ne frega un cazzo Ma poi Roma li ha già battuti da solo Tutti e tre Cioè E' quello il problema Diciamo che Una fida introduttiva A un periodo Che probabilmente arriverà Le survival series Dove sarà Nel ultimo In qualcosa Di più grande Poi Vediamo un pochettino Il Paladino Deve dire la sua Più cato Su questa domanda Che abbiamo appena Ricevuto Paladino Ci sta ascoltando Sulla Sulla Broken Gaming Che è una cosa Non inventata In WWE E quindi E' uno schifo Perché solo le cose In WWE Contano Il resto è inutile Ok Va bene In realtà Non so Neanche che cazzo Dire Ma i diritti Della gimmick Del Paladino Il Paladino Ovviamente Poi Domanda per Me Mattia Moreno Ricordiamo Che l'ho mandato Più over io Di tutto In ultimi anni L'ho mandato over io Altrimenti Questo qua Spariva Ci chiedono Se faremo Lo Universe Anche con W2KT Ovviamente Ci chiedono Se vogliamo Fare anche NXT Allora Io lo dico Chiaramente Io sono Io ho un paio D'anni che non vorrei Comprare W2KT Purtroppo Lo compro Perché Dobbiamo fare Sta porcata Perché ormai È una roba Più grande Di noi Esatto Io non lo comprerei No dicevo Ci chiede Possiamo fare Anche NXT Visto che comunque Il roster dello show Giallo Quest'anno Ha parecchia gente Tra cui Lars Sullivan E Sawyer Fulton È un po' Complicato Perché più che altro Allora Tenendo conto Che ci sono praticamente Tipo 40-50 Dotatori nuovi Nell'edizione nuova Di quest'anno Quindi dovremmo Probabilmente Anche fare un draft Di questi lottatori Che sono arrivati Sì Tipo Io alcuni Ti avevo già proposto Di fare uno scambio Tipo Io ti volevo dare il triplo E mi figliamo giù No Più che altro Più che altro Tipo Allora Io di quelli nuovi Mi prenderei volentieri Il drifter Sì Perché voglio farlo Giobbare a morte Quindi Voglio farlo Giobbare Il jobber Il jobber Vediamo poi Vediamo poi Quando ce li abbiamo Ovviamente In questo momento Non so Per chi avrei Dei piani Per Smackdown Live Il problema è che Se aggiungiamo NXT Poi dobbiamo anche Bucarlo Quindi comunque Sono E poi le dirette Diventranno anche più lunghe Quindi già sono lunghe Allora Ci sono due motivi Per cui non facciamo Lo Universe Da un po' Perché è lungo Numero uno Numero uno Perché non ci abbiamo tempo Numero due Perché le puntate Dello Universe E l'ho notato anche voi Guardandole Sono lunghe da fare Sono quasi tre ore Quindi sì Sono quasi tre ore Di diretta E quindi molte volte Non abbiamo voglia Noi di metterci lì A farle Esatto Perché ovviamente Ragazzi Cioè comunque Sì ci divertiamo Però Cioè comunque Dopo un po' Ti pesa stare Per i giorni da tardi Naturalmente Vabbè io adesso Comunque lavoro di sera Quindi comunque Ci sto anche fino a tardi Me lo posso anche Posso anche stare Su fino a tardi Invece che di guardarmi un film Cazzeggio con lo Universe Esatto Però è già Cioè comunque Lo Universe Non è tanto semplice Da realizzare Cioè nel senso Sì è semplice Nel senso che Non ci metti un cazzo A mettere sui match E a commentarli Però comunque Il lavoro che dobbiamo fare Di metterci lì Commentare i match Guardare Tutto il resto è lungo Ed è una cosa Che non è che ci Cioè che comunque Ci porta via tempo E a volte Non abbiamo voglia di farlo Quindi figurati Se dobbiamo fare Anche NXT NXT chiudiamo Cioè se una diretta La chiudiamo a mezzanotte e mezza Con NXT la chiudiamo alle due Quasi È molto più lunghi Di quello che ci aspettiamo Perché non potendo Essendo tutti Shoot i match Può capitarti il match Che dura 30 secondi Può capitarti il match Che dura 30 minuti E magari è Nell'Undercard Ti ricordi Il submission match femminile Che era buggato All'inizio Che era durato tipo 40 minuti Ma ti ricordi Quando avevamo fatto Quando avevamo fatto Il pay per view Non mi ricordo qual era Che avevamo aperto Con il mio match Di Smackdown E poi nel main event C'erano Era durato tipo 4 minuti Cioè Sì che non è durato niente Perché vabbè Romano è un cretino Poi Che fine hanno fatto i grassi Mi ricordo che Combattevano in New Japan Sì combattevano Da quelle parti Poi non li hanno più Ripresentati Grazie a Dio Aggiungerei anche E niente Poi Come vedete Una vittoria La foto che è pubblicata Era 300 canotti fa Di cosa Sì ma Era per Era perché Per alimentare Per alimentare Una voce Che è girata Negli ultimi Di Caitlin Sì Di Caitlin che pare Stia tornando Pare si stia allenando Era 40 masse Muscolari Fabio Io l'unica cosa Che spero Io l'unica cosa Che spero E che se la Cioè che spero Che Io e Michael Abbiamo una convinzione Sì Che lei e Biggie Che lei conosca bene Biggie Cosa vuol dire la parola I Vabbè lasciamo perdere Noi abbiamo Io e Michael Abbiamo questa sensazione Questa convinzione Sì Lei comunque Effettivamente Già era grossina Già era grossa prima Adesso è veramente enorme Lei dal punto di vista Sì ha partecipato All'Arnold Classic Sì esattamente E avere L'ex marito Che è stato Diciamo implicato In traffico di steroidi Evidentemente aiuta Più Ha aiutato Anzi più Più che altro Ah poi 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 Vediamo un po' I Gresi Grazie a Dio Non si vedono più Perché quelle poche volte Che hanno fatto cagare i morti In Bellator Potete vederli forse Sì Come vedete Una vittoria di Finn Balor Versione Demon Ai danni di Brock Leser Per titolo universale In impossibili match Sola rossiri Sola rammol Pessima Perché non c'è Non pessima Mi piacerebbe Però i piani non sono quelli I piani non sono quelli Balor 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 Non semplice più uno Leser deve arrivare imbattuto Resto il mania Per perdere poi con Rains Però comunque Balor L'ha vizionato Ma infatti Il match potrebbe anche farsi Più che altro Però lo perde sicuramente Sì beh Con lo si Non escludo anche Che perda anche In meno tempo di Brone Il problema di quel match lì È come lo vendi Cioè Come fai A creare Come fai a rendere Balor credibile per Leser Dopo che ha battuto Strowman e Rains Potevi rendere credibile In tante maniere Cioè Il problema è che Anche la faida Che sta tenendo adesso Con Wyatt Lo rende meno credibile Per tanti motivi Perché è una faida Che fa schifo Ma poi ha vinto Ma poi ha vinto Con Goldast Tipo dopo che Goldast Ha avuto un'offensiva Sì esatto Goldast è stato Goldast è Goldast Era tipo Fortissimo Rispetto a lui Ha avuto un'offensiva Ha avuto un'offensiva Della madonna Rispetto a Wyatt E ha comunque Perso con una mossa Cioè per uno Che deve andare Con Leser Lo devi scusciare Secondo Poi Pensate che la WWE Troverà male Lottatore inglese alto Con un buon fisico O la stazza Sarà sempre quella Del torneo UK Non è tanto La stazza del torneo UK È il mondo Del wrestling Che sta cambiando I grandi e grossi Se non sono in grado Di fare le mosse Non vanno avanti Più che altro Wolfgang per esempio Piccolino Non mi chiede Anzi Ma diciamo Che anche Seven Ha la sua bella Circonferenza Poi guardi Tyler Bate Effettivamente È un po' Sproporzionato È grosso Muscolarmente Ma è nano Ma stiamo parlando Di un ragazzo Di vent'anni Ancora Sì Beh ma non credo Che cresca ancora L'età dello sviluppo È finita da un paio D'anni Può svilupparsi Magari muscolarmente Esatto Muscolarmente Sì Esatto Ci siamo capiti Dove si può sviluppare Soprattutto se va Al performance center Cioè Abbiamo visto gente Raddoppiare Ma non Di additivi Ma raddoppiare Proprio di lavoro E ci chiede Poi questa persona Non trovate che i lottatori Che provengono dalle Indie Siano molto simili tra di loro Ovvero Bassino Magrodini con gli addominali Mutande nere Stivali neri No vabbè Questa è una visione Molto Diciamo Molto Molto Kevin Nash Diciamo Molto Kevin Nash Molto Vince McMahon Anche sì Ma non è così Perché comunque abbiamo Kevin Owens Non è niente di tutto questo Per esempio Esatto Fimbalo non arriva Dalle Indie Arriva dal NJapan Sì Cioè sono Molti altri Poi tra l'altro C'è gente Poi C'è gente C'è È un esempio È un esempio Se prendi tre Che sono arrivati In NXT Quelli dell'Undisputed Sì Hanno un carisma Tutti e tre No poi Sì magari Possono anche essere Dei mutandari Ma hanno un carisma Possono essere anche simili Però 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 Più che altro Hanno comunque tre stili Molto diversi Dal punto di vista Allora Ne parlavamo prima Oni Lorkan Cioè Oni Lorkan È pazzesco Sì È un mutandaro Praticamente Se fosse giapponese Ti direi che è un mutandaro Giapponese Ma è fantastico Secondo me Lui in un match In un match Stile New Japan O comunque Strong Style Farebbe grandi cose Sì Lui ha Ha una foga Cioè È fantastico Vedere lottare Oni Lorkan Secondo me È proprio bello Ti mette Ti mette carica Cioè Ha un carisma Mentre lotta Pazzesco Ma poi comunque Ha uno stile Diverso rispetto A tutti gli altri Cioè E comunque La gente Cioè Il pubblico Rimane comunque Coinvolto E poi Non mi pare Di avere altro Poi Per dire Nelle indie C'è anche gente Come Dalton Castle Che non c'è niente Come Dalton Castle In giro A parte lui Tra l'altro Parlando di Castle Pare che Il main event Di Final Battle Potrebbe essere suo Sì E nulla Beh Con il L'engol Che hanno fatto In Inghilterra Era È palese Che si va Pararigare Sì E basta Non mi pare Di avere altro Per questa settimana Quindi direi Che possiamo anche Chiudere qua La puntata Di questa settimana Di Caffè Ringrazio Moreno Berdascondi Che è stato con noi In precedenza Ringrazio Fabio Denardi Grazie a tutti Ci sentiamo Credo Settiamo a Porsa Quindi Settiamo a Porsa Ok Grazie a Mattia di noi Grazie a voi Ci sentiamo Settimana prossima E state attenti A quello che dite Perché la Davida B Potrebbe denunciare Esatto Grazie a Leonardo Contini Grazie a voi Alla prossima Grazie al Garante Grazie a voi Che ci avete ascoltato Fino a questo momento Ricordiamo gli appuntamenti Ma soprattutto Grazie a me Che ti sto proteggendo Chiedo scusa Chiedo scusa Ha ragione Schifoso Non mi saluti Ma perché hai paura di me Come c'ha paura di Daphne B No perché mi sono dimenticato Mi sono dimenticato Ha ragione Paladino Le chiedo scusa Stai cercando Stai cercando anche tu Di togliermi la parola Perché io So delle verità Io conosco le verità E vi anticipo le cose Sì va bene Tutte le volte che dico qualcosa Si avvera Perché io so cosa succede Se non si avvera Perché la Daphne B Non vuole darmi ragione Come Punk contro Brian Esatto Esattamente la stessa cosa Va bene Grazie a tutti voi Che ci avete ascoltato Fino a questo momento Gli appuntamenti di settimana Sono martedì Alle ore 22 L'appuntamento con il post Mondo e Metro Di questa settimana Lo Universe vediamo Se farlo lunedì Mercoledì Cioè ripeto Io sto lavorando fino a tardi In sto periodo Sempre verso Fino a l'una dei due Quindi non è che mi cambierebbe Molto guardami un film O fare lo Universe Però c'è anche Cioè bisogna vedere poi Di mettere a posto Tutti i nostri impegni Naturalmente Naturalmente Grazie a voi Che ci avete di nuovo Avete ascoltato fino a questo momento Rimanete con Tutorresti.com Ci sentiamo come detto Domani per il post Mondo e Metro Con il Wrestling Cafe Invece l'appuntamento Tra domenica e lunedì prossima No Tra sabato e domenica prossima Chiedo scusa Perché c'è Perché saremo poi Un giorno prima Rispetto a Rispetto Saremo poi Nella vigilia immediata Di Elinusel Giusto Perché Domenica prossima Abbiamo messo pure una bella Team song A Elinusel Domenica prossima E Elinusel E tra l'altro Non abbiamo neanche parlato del fatto che New Day New Day e Yuzo Sono all'interno della gamba Come peraltro speravamo Esatto Dovrebbe essere quello un bel match Io credo Credo che questa Se questo match viene bene Io La metto già come Fida dell'anno È possibile Fida dell'anno in WWE Assolutamente Grazie a voi A livello di qualità dei match Comunque Elinusel O Elinusel Ricordiamo Va bene O Rage in the Cage Esatto Grazie a voi che ci avete ascoltato Fino a questo momento Buona settimana Rimanete con Tutoresti.com Alla prossima Ciao Ciao Fag the revival Alla prossima Alla prossima